Va bene, allora io direi iniziamo e poi magari chi è un attimo attardato continueremo a farlo entrare. Allora buongiorno a tutti, benvenuti, noi ci ritroviamo per quelli che hanno seguito le edizioni precedenti anche quest'anno. CAF Confunisco ha rinnovato l'impegno con la fondazione dell'ordine dei dottori commercialisti di Trani per curare anche per quest'anno questo corso di formazione per l'operatore CAF 2023. Adesso saluto intanto l'amministratore di CAF Confunisco, il dottor Francesco Altamura. Buongiorno Francesco. Buongiorno, buongiorno. La dottoressa Alice Pellegrini, esperta formatrice di Zucchetti che sarà la nostra prima relatrice. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora io passerei subito la parola al dottor Altamura per le sue considerazioni iniziali. Prego, Francesco. Grazie, grazie Beppe. Buongiorno a tutti. Come hai già anticipato tu, anche quest'anno il nostro CAF ha predisposto, con la collaborazione della fondazione Odicek di Trani, che ringrazio, un percorso formativo dedicato agli operatori di sportello CAF che punta principalmente a far acquisire solide competenze in materia fiscale e tributaria attraverso l'aggiornamento sia procedurale che normativo. Durante queste giornate di studio vi saranno le prime due giornate dedicate a tutte le procedure informatiche che utilizziamo a supporto per erogazione dei servizi fiscali che, come sapete, oltre al 730, servizio che svolgiamo per conto di agenzie delle entrate, anche tutti i software che utilizziamo per i servizi che offriamo all'IMS, cioè RED, IMCIB, RDC, eccetera. Inoltre si approfondirà il modello organizzativo, nella terza giornata, si approfondirà il modello organizzativo adottato dal nostro CAF. Analizzeremo in maniera dettagliata tutti i quali del modello 730, anche con casi pratici. La formazione, come poi spiegherà meglio il Beppe, è strutturata in 11 giornate di corso in modalità FAD e in ogni giornata ci sarà una giornata dedicata alla risposta di tutti i quesiti che arriveranno durante le giornate di studio. Si cercherà quanto è possibile di rispondere in diretta ai quesiti, però riteniamo che quelle più strutturate, le informazioni più importanti, vengano poi sviscerate in maniera più approfondita e resta disponibili a tutti quanti attraverso una giornata dedicata appunto alla risposta dei quesiti. Dicevo, oltre a questo saranno somministrate a fine giornata dei specifici test di approfondimento delle giornate e poi attraverso la piattaforma software saranno svolte anche delle simulazioni. Per entrare nel vivo, come ho detto, nella giornata di oggi avremo la possibilità, con l'ausilio della società Zucchetti S.p.A., che ringrazio, di entrare nel pratico delle fasi che si consentono di prestare l'assistenza fiscale. Con l'ausilio della dottoressa Pellegrini vedremo tutte le varie fasi di creazione del modello 730, anche facendo una breve panoramica sulle novità fiscali. Ovviamente il tempo che potremo dedicare è questo, quindi non saranno gli approfondimenti verranno poi sviscerati nelle giornate successive, però ecco una panoramica la potremo vedere già da oggi. Inizieremo infatti con vedere tutta la procedura per quanto concerne dalla creazione della delega al prelevamento del modello precompilato, l'imputazione dei dati, l'elaborazione del modello di liquidazione 730-3 e la stampa. Ricordo una cosa importante, che il modello precompilato è una fase importantissima del nostro lavoro, perché è un grandissimo supporto che l'agenzia delle entrate ci mette a disposizione, perché come ben sapete già riepiloga la gran parte dei dati e delle informazioni che ci servono per sviluppare e lavorare il modello 730. Quindi è uno strumento che dobbiamo assolutamente utilizzare e sfruttare. Come sapete, nella precompilata vengono messe tutte quelle informazioni riguardanti gli deducibili e detraibili, per fare giusto un esempio, spese sanitarie, universitarie, premi assicurativi, mutui, contributi previdenziali e anche i bonifici effettuati per le ristrutturazioni edilizie. Quindi approfittiamo di questo valido strumento che l'amministrazione finanziaria ci mette a disposizione e utilizziamolo come base per sviluppare poi il modello 730. Ultime informazioni che comunque vi saranno ridette sicuramente nel corso delle altre giornate. L'agenzia delle entrate ci ha comunicato che quest'anno i 730 precompilati saranno disponibili a partire dal 30 aprile. Quindi noi da subito potremo iniziare a caricare le deleghe per la richiesta del precompilato. Appena il canale sarà aperto da parte dell'agenzia delle entrate, noi invieremo la richiesta di precompilato e mi auguro che i primi del mese di maggio saremo già in grado di mettervi a disposizione la dichiarazione precompilata. Le scadenze degli invii sono come sono gli stessi dell'anno scorso. Quindi noi entro il 15 giugno dovremo inviare tutte le dichiarazioni caricate entro il mese di maggio, il 29 giugno quelle dal primo al 20 giugno, il 23 luglio quelle caricate fino al 15 luglio e così via. Ovviamente tutte queste informazioni ve le sto dando in maniera molto veloce ma vi saranno sicuramente ridette attraverso le mail che partiranno dal nostro servizio di assistenza. Comunque voi sapete bene che qualsiasi informazione potete contattarci sia al mio indirizzo mail direzione chiocciolacafconfunisco.it oppure all'assistenza. Assistenza chiocciolacafconfunisco.it Io penso di aver dato le informazioni generali, non voglio rubare altro tempo e passo la parola a te Beppe prima dell'introduzione poi della relazione della dottoressa Pellegrini che ringrazio ancora della sua partecipazione. A voi allora e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie dottor Altamura. Noi procediamo. Allora io vi passerò solo alcune informazioni, condivido una presentazione di supporto, passerò solo alcune informazioni di servizio. Servono ad organizzare al meglio i nostri lavori, i vostri quindi lavori e quindi a ottenere da questo tempo che passeremo insieme il miglior risultato possibile. Ecco sto controllando che anche che tutto proceda bene anche nelle altre sessioni aperte. Allora dicevo le informazioni sono riguardano alcuni aspetti importanti per voi, per tutti noi insomma. Il primo riguarda la rilevazione della presenza e della partecipazione. Abbiamo sia come operatori CAF, sia perché magari tra di voi ci sono dei professionisti che avranno poi bisogno di vedere riconosciuti i crediti, un attimo che ammettiamo altri due colleghi che arrivano, di rispettare dei regolamenti. Questi regolamenti prevedono una mappatura, lo sapete già bene, una mappatura dell'ingresso, dell'uscita e anche della partecipazione. Quindi ogni giorno, per ogni lezione, voi riceverete un link, quel link vi servirà per accedere ad una piccola mappa nella quale inserire i vostri dati, così restano nel database le vostre credenziali. Nel momento in cui accedete alla piattaforma viene rilevato l'accesso, nel momento in cui uscirete viene rilevata l'uscita. Se per qualche malfunzionamento c'è una necessità di rientrare più volte, tutto questo viene mappato dalla piattaforma e quindi viene rilevato e tenuto a nota. Questo per quanto riguarda ingresso e uscita. Invece per quanto riguarda la partecipazione, noi abbiamo pensato di operare attraverso dei sondaggi che sono funzioni messe a disposizione dalla piattaforma Zoom. Ne faremo uno per ogni ora di attività, quindi oggi è la prossima lezione del 6, sono previste tre ore, faremo quindi tre rilevazioni. Sull'ultimo sondaggio verrà evidenziato il fatto che è quello conclusivo, quello di chiusura. È una cosa molto importante, il sondaggio sarà lasciato aperto per circa cinque minuti e lo vedrete in sovrapposizione sulla schermata che adesso dovrete scorrere sul video e quindi non potete non vederlo. Sarà sufficiente fare un click e passerà il pop-up e avrete segnalato così la vostra partecipazione all'attività. Ancora, velocemente, l'interazione. Allora è molto importante, vedo che è diffusa già, quindi questo è banale, ma insomma le denominazioni devono essere riconoscibili in caso di qualche controllore che dovesse o volesse entrare nella piattaforma deve poter riconoscere i nomi, i cognomi e quindi stabilire le corrispondenze. La modalità di interazione può essere duplice, quella prevalente preferibile è quella attraverso la live chat, alla quale peraltro siete abituati. Quest'anno avete visto abbiamo cambiato piattaforma, quindi ci adeguiamo insomma anche un po' a questo. Esiste, visto che parliamo di Zoom, la possibilità anche di interazione in audio video, però questo comporta diciamo una dilatazione dei tempi di interazione, quindi compatibilmente con il tempo disponibile e con le necessità dell'oratore vedremo di farla eventualmente valere. Altrimenti tutte le vostre domande andranno in chat, la dottoressa Pellegrini oggi, ma tutti gli esperti hanno la finestra chat aperta, quindi vedono le domande che voi porgerete e valuteranno se rispondere in diretta nella dinamica di interazione con l'uditorio oppure se rispondere magari in differita. e allora come l'anno scorso ci sarà una comunicazione con un riepilogo delle domande fatte e quindi delle risposte articolate dagli esperti. In questa maniera si formerà anche una sorta di fac a beneficio di tutti voi partecipanti. Ancora procediamo con un altro tema che è quello della vautazione, l'ha già anticipato il dottor Altamura, ogni lezione vedrà il suo test e avrete ovviamente il risultato del test. Il test, come sapete, ha il compito di agevolare, di facilitare l'autovautazione dell'apprendimento di ogni partecipante, quindi non si è promossi o bocciati, semplicemente ci si aiuta a valutare quanto è stato appreso, quanti dubbi ancora ci sono eventualmente da chiarire rispetto ai temi trattati. Infine c'è, e questo sì invece è importante, il test finale che sarà curato direttamente nei contenuti, nella struttura da confunisco e questo invece, il superamento di quel test è invece importante per l'ottenimento dell'attestazione e quindi riconoscimento dei crediti. Ancora abbiamo terminato. L'attestazione finale che viene poi riconosciuta è fondata su due elementi, questo per regolamento, le materie trattate e il numero di ore di frequenza e di test effettivamente svolte sul totale previsto. Sapete che il totale è 30, quindi noi dobbiamo arrivare preferibilmente a 30. Continuo a gestire gli ingressi. Ancora avanti, ecco i materiali didattici che sono anche importanti. Per quanto riguarda le lezioni curate dagli esperti di Zucchetti, poiché loro tratteranno la presentazione delle funzioni, delle procedure, non metteranno a disposizione altro materiale perché si può tranquillamente fare riferimento alla manualistica del software che poi, come sicuramente vi dirà meglio di me la dottoressa Pellegrini, è disponibile online, in consultazione interattiva online e quindi non avrete dispense per queste due le prime due lezioni. Per tutti gli altri esperti, come sempre, vi metteremo a disposizione i materiali che loro daranno a noi e se possibile anche, come facevamo l'anno scorso, anche in anticipo, prima della lezione, in maniera tale che possiate eventualmente averla già a disposizione e quindi seguire e appuntare sulla dispensa le vostre note. Ad ulteriore supporto, come dicevamo prima, vi daremo anche le registrazioni di tutte le lezioni. Quindi, mano a mano che svilupperemo questa attività, diciamo settimanalmente, provvederemo a mettere a vostra disposizione i link per accedere on demand alle registrazioni. Quindi le curiamo un attimo, le spogliamo di tempi inutili e ve le mettiamo a disposizione. Infine, l'ha già detto il dottor Altamura, questi sono i riferimenti per voi, riferimento istituzionale di Confunisco, il dottor Altamura, per le informazioni che hanno a che fare con i contenuti. Le scelte sono state del committente, in questo caso la fondazione dell'ordine dei commercialisti di Trani organizza e gestisce il servizio, ma i contenuti sono stati, diciamo così, definiti dal Confunisco. Poi aspetti organizzativi interni alla struttura, rivolgetevi a lui, anche poi quando arriverà il momento per il test finale e gli attestati. Per quanto riguarda invece esigenze di tipo organizzativo didattico, qui il referente sono io, lì ci sono i nostri contatti mail, se avete difficoltà o avete magari avuto problemi o avete qualche suggerimento per la dinamica della gestione di questi eventi, potete tranquillamente scrivere. Se vi manca qualche documento, non lo so, per quello che è possibile ve lo rimandiamo. Per quanto riguarda i link delle lezioni, avete avuto le prime due, il dottor Altamura vi spedirà entro giovedì l'intero calendario che è già pronto con i link di tutte le altre lezioni. Allora, io ho terminato la mia presentazione. Una raccomandazione ultima vorrei fare compatibilmente con impegni inderogabili di ciascuno di voi, la preghiera è di essere nei 15 minuti oltre l'orario, cioè noi per dare una linealità e dare agli esperti il tempo di sviluppare completamente gli argomenti, i 15 minuti li abbiamo in gestione. Quindi l'ingresso in piattaforma, fatelo tra l'inizio della lezione previsto e il quarto d'ora accademico che è sempre, diciamo così, è previsto poi concedere o comunque noi faremo in modo di avere. Altrimenti poi diventa complicato continuare ad ammettere persone che sono in sala d'attesa e per loro soprattutto riprendere il filo del discorso che l'esperto sta facendo. Per ogni... ecco qua, infatti ne stiamo parlando, arriva un altro collega. a seconda della durata della lezione faremo una pausa, quindi oggi per esempio intorno alle 11 e mezzo in base allo sviluppo del tema che la dottoressa Pellegrini svilupperà, però intorno alle 11 e mezzo faremo un quarto d'ora di pausa. Anche qui mi raccomando potete anche lasciare aperte le vostre sessioni, anzi vi consiglio di farlo per evitare, diciamo, di perdere poi il tempo e di avere qualche problema tecnico ma di rispettare comunque i tempi di ritorno perché il quarto d'ora sarà rispettato. Bene, grazie per l'attenzione, vi auguro buon lavoro, vi consiglio per quanti, diciamo, ancora essere aperta intanto tutti i microfoni muti, così non ci sono interferenze e non ci fate ascoltare magari dei dialoghi privati e se poi avete qualche difficoltà, sì sì perché simpaticamente la dico, insomma, c'è successo e ci succede un po' di tutto, insomma, l'ultima esperienza è una signora, una gentile signora che aveva, era collegata tramite il telefono, ci ha fatto visitare tutta casa, ci ha fatto vedere, insomma, un po', stava dando disposizioni alla signora delle pulizie e quindi ci ha fatto visitare casa mentre dava disposizioni, meno male che aveva il telefono in muto. Vabbè, al di là dell'aneddoto, do la parola volentieri alla dottoressa Pellegrini e auguro a tutti buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, io sono Alice Pellegrini, lavoro nella divisione FQ di Zucchetti Software e quindi ci occupiamo dello sviluppo della piattaforma che oggi vedremo insieme in questa sessione di formazione. Ringrazio Confunisco e Fondazione Oddcheck per l'ospitalità di oggi. Noi ci occupiamo per l'appunto dello sviluppo di una piattaforma in uso a CAF, ma anche ad aziende, non solo specificatamente riguardo al prodotto 730, ma anche ad altri, come vedrete nei prossimi giorni di formazione. Il taglio che daremo, come già accennato dal dottor Altamura oggi, è di tipo prettamente tecnico. Io sono un tecnico, non sono un fiscalista, quindi non sono un'esperta fiscale, ahimè, e li incontrerete nei prossimi giorni, cercherò nel limite del possibile magari di anticiparvi qualche argomento per creare anche magari un po' di hype nei confronti dei prossimi incontri, mi rendo conto che possa essere un po' complicato vedere il lato applicativo prima di avere la parte teorica. Ecco, prendiamolo come al momento una specie di preview. Sappiate che ci sarà questa novità, nella procedura verrà trattata in questi termini. Come vedremo e come già accennato anche appunto dal dottor Di Liddo, all'interno della procedura comunque nel menu di aiuto sono presenti due manuali, quello più strettamente applicativo e quindi il manuale generico della piattaforma, ma anche una presentazione che noi prepariamo per i nostri clienti e che mettiamo sempre a disposizione nel menu di aiuto, specifica sulle novità fiscali dell'anno in corso, e che illustra anche a livello grafico come abbiamo scelto di risolvere a livello tecnico le novità fiscali introdotte dalla normativa. Non mi dilungo altro, spengo la webcam e condivido lo schermo. Per la giornata di oggi io utilizzerò un ambiente di demo del tutto simile a quello che avrete a disposizione anche a livello proprio applicativo. ho la chat attiva per qualsiasi difficoltà relativa alla mia voce o alla condivisione dello schermo o magari alla poca visibilità di certe maschere, scrivetemi pure in chat oppure avvisate il dottor Di Liddo che mi interrompa pure in qualsiasi momento in modo da rendere la presentazione più fruibile possibile. La nostra piattaforma è una piattaforma sostanzialmente piramidale. Che cosa intendo dire? È una struttura che prevede un organigramma verticale che parte dal CAF e poi nelle diverse sedi o nelle diverse zone suddivide l'archivio. Questa struttura piramidale si evince già dalla maschera di login che come potete vedere in questo momento prevede in realtà l'introduzione di 5 campi la login e la password che ovviamente è strettamente personale un codice identificativo del CAF che come potete francamente intuire dal nome in questo caso si tratta di un ambiente di demo utilizzato dalla nostra divisione appunto per i corsi di formazione una sede specifica che in questo caso identifica me come formatore rispetto agli altri e una zona specifica che oggi ho dedicato proprio per la presentazione in collaborazione con il CAF Confunisco. Non necessariamente tutti gli operatori avranno la necessità o l'obbligo di compilare tutti questi 5 campi a seconda del proprio livello è possibile che un operatore possa compilarne solo 3, solo 4 oppure che sia tenuto a compilarne tutti e 5 già solo per effettuare l'accesso all'interno della piattaforma. Il CAF vi fornirà le login di accesso e presumibilmente sarete obbligati a variare la password al primo accesso in modo che diventi strettamente personale attraverso l'inserimento di una password sicura che quindi prevede l'inserimento di almeno un carattere maiuscolo almeno un carattere minuscolo almeno un numero e un carattere speciale questo per essere il più in linea possibile con quelle che sono anche le normative e le richieste le normative della privacy quindi le richieste di sicurezza che vi vengono anche imposte normativamente dal momento che voi tratterete all'interno di questa piattaforma dei dati assolutamente riservati e privati dei contribuenti vostri clienti. Una volta effettuato l'accesso all'interno della piattaforma questa è la visualizzazione che viene mostrata. La suite si suddivide sostanzialmente in tre sezioni una barra in alto dove viene riproposto il dato dell'operatore logato in questo momento, l'accesso al prodotto di una grafica unica al quale acceneremo dopo ma nella quale non dovreste avere la necessità di accedere normalmente, alcune funzioni di utilità quali quei mail, le statistiche, il monitor accessi sui quali oggi non ci soffermeremo, l'amministrazione, la funzione di cambio password nel modo che voi siate autonomi eventualmente anche nella gestione dell'aggiornamento di una vostra password e la funzione di logout. Nella parte centrale invece come vedete sono riportate le icone di accesso alle singole procedure. Ciascuna dei bottoni, ciascuno dei pulsanti che voi vedete in questa maschera permettono l'accesso a uno specifico programma presente in piattaforma. È chiaro che tutti questi programmi tra loro comunicano potenzialmente quindi nel momento in cui si entra e si inserisce un dato all'interno del 730 questo dato è potenzialmente recuperabile per esempio dalla procedura IMU piuttosto che dalla procedura DSU che vedrete con il mio collega tra un paio di giorni. Ovviamente tutte queste piattaforme hanno anche una suddivisione a nostro parere abbastanza logica. Nella parte diciamo di sinistra sono elencate tutte le procedure più strettamente fiscali e collegate all'annualità quindi in particolare 730, fatture, F24, IMU ci sarà la procedura redditi mentre sulla parte di destra sono presenti tutte le procedure a partire dalla DSU collegate all'IMS in modo più o meno diretto. Nel momento in cui, ora per voi questo è il primo anno di utilizzo per CAF confunisco intendo questo è il primo anno di utilizzo della nostra piattaforma ma col passare degli anni vedrete che la possibilità di accedere alle procedure degli anni precedenti avviene tramite lo spostamento in questi tab vedete che cambia la visualizzazione diventa grigio anche per sottolineare il fatto che non si tratta della suite in essere ma di uno storico a cui io sto accedendo e permette appunto l'accesso anche solo in visualizzazione in consultazione se non necessariamente a livello proprio attuativo e compilativo dei dichiarativi degli anni precedenti anche per CAF confunisco in realtà nonostante sia il primo anno di attività potrete ritrovare all'interno della procedura 730 2022 caricati i 730 che sono stati gestiti nell'anno scorso questo per poter rendere i dati non soltanto direttamente consultabili in piattaforma e quindi per permettervi di aprire in parallelo le due procedure 730 2023 in corso e 730 2022 dell'anno precedente in parallelo e poter confrontare eventualmente le due dichiarazioni di un medesimo contribuente ma anche funzionalmente a riporto dei dati nella procedura 730 di quest'anno chiaramente ma anche eventualmente in una procedura redditi piuttosto che in una procedura deleghe o in una procedura IMU a seconda di quello che avrete la necessità di operare in quel particolare momento per quel particolare contribuente una procedura in particolare che vi interessa per quanto riguarda la campagna fiscale del 730 è la procedura deleghe la procedura deleghe è in realtà una procedura che raccoglie tutte le deleghe che il CAF ha la necessità di raccogliere quindi non soltanto la delega alla precompilata ma anche per esempio la delega al mandato per il servizio REDD la delega al mandato per il servizio INCIV la delega al mandato per il servizio RDC sono tutte raccolte all'interno di questa procedura in modo che voi in un'unica procedura possiate sempre verificare quante e quali deleghe avete raccolto per ogni contribuente per quanto riguarda però il servizio 730 non avrete la necessità come vedremo tra poco di entrare direttamente nella procedura e deleghe perché è stato predisposto un accesso semplificato e accelerato direttamente dalla fase di creazione del modello 730 che tra pochi minuti vedremo vi volevo soltanto accennare appunto all'importanza di questa funzione perché probabilmente la vedrete, la utilizzerete anche in altre procedure anche per altri servizi che non sono strettamente collegati al 730 e anche e soprattutto può essere che lo vedrete nei prossimi giorni di formazione con il mio collega magari collegata al servizio RDC piuttosto che al servizio REDD o al servizio IMCIV entriamo in quello che è il prodotto di interesse di principale interesse della giornata di formazione di oggi il servizio 730 dal momento che per voi la piattaforma è nuova vi do qualche informazione in più un po' tutte le nostre procedure hanno una struttura simile a quella che vedete in questo momento nel momento in cui si fa l'accesso alla piattaforma nella home è sempre visibile una parte in alto con tutta una serie di menu vedete home, dichiarazioni, servizio ovviamente ognuna di queste voci e ognuna delle voci presenti in questo menu è soggetta ad abilitazione quindi è probabile che alcuni di voi se non tutti non avrete una visualizzazione completa come quella che ho io in questo momento funzionale alla presentazione di oggi perché chiaramente i vostri operatori siano operatori operativi e non operatori di amministratore avranno magari inibite alcune voci o alcune voci singole all'interno dei menu che adesso vi farò vedere oppure proprio intere voci di menu tra i menu diciamo che vedete il menu di aiuto ve ne parlo perché è quello che vi ho accennato pochi minuti fa che contiene il manuale operativo della procedura e la presentazione con le novità fiscali del 730-2023 cui vi rimando qualora la mia presentazione fosse stata troppo veloce o non sufficientemente chiara questo è un file di autoformazione che avete sempre a disposizione all'interno della piattaforma e che periodicamente aggiorniamo quindi qualora ci dovesse essere una variazione sostanziale in corso d'anno è possibile che venga integrato questo menu di aiuto con altri manuali aggiuntivi le altre voci che voi vedete già soltanto entrando nella piattaforma di interesse possono essere i sommari aggiornamenti i sommari aggiornamenti mostrano gli aggiornamenti che la nostra soft house rilascia per i nostri clienti mano a mano che c'è lo sviluppo della campagna fiscale utilizzando questo link voi potete scorrere e andare a vedere gli aggiornamenti precedenti per andare a monitorare se una particolare funzione è già stata rilasciata in aggiornamenti precedenti oppure no quindi già solo questo vi può aiutare per andare a intuire se alcune delle funzionalità sono presenti all'interno della piattaforma oppure se non sono ancora state rilasciate le voci di menu sono abbastanza ricorrenti e parallele indipendentemente dalla procedura quindi le vedrete riproposte anche in procedure diverse quali DSU, quali deleghe e quali per esempio eredità e volture per esempio e hanno una logica di questo tipo il menu dichiarazioni o gestione pratiche dipende un po' dai prodotti contengono quei menu e quelle voci di menu che permettono rispettivamente la gestione delle pratiche quindi la creazione di nuove pratiche l'accesso in visualizzazione e in compilazione e modifica delle pratiche già presenti in archivio e le eventuali funzioni di stampa massiva i menu di servizio contengono tutte quelle voci di menu che permettono di fare delle statistiche all'interno dell'archivio in corso d'opera quindi il menu in particolare il menu statistica assistenza CAF permette di generare un PDF di una o due pagine contenente esclusivamente i totali per verificare quante pratiche sono state inserite quante di queste sono errate quante di queste sono già state stampate e così via ma fornisce come detto esclusivamente i totali invece la voce report è una voce sulla quale torneremo a fine giornata che serve per andare a fare delle statistiche anche molto fini molto dettagliate sul nostro archivio ma con la possibilità di ottenere degli elenchi quindi l'elenco preciso dei contribuenti che le cui pratiche le cui dichiarazioni ad oggi in questo minuto secondo corrispondono agli eventuali filtri che io vado a impostare nelle maschere che sono disponibili all'interno di questa di questa voce di menu ma poi vedremo più nel dettaglio di cosa sto parlando il menu utilità contiene in generale tutte quelle voci di menu che agiscono in modo massivo sulla piattaforma sull'archivio per esempio le funzioni di cancellazione pratiche per esempio tutte le funzioni di importazione per esempio anche la funzione di generazione del telematico verrà resa disponibile all'interno di questa voce di menu la voce gestione sostituti è specifica invece del 730 e contiene la vostra anagrafica sostituti è un'anagrafica che si popola in automatico mano a mano che si vengono a riportare le pratiche dall'anno precedente o a inserire delle pratiche ex novo ma questo menu e le voci in esso contenute permettono una gestione specifica e puntuale dei sostituti d'imposta ai quali mi appoggio per la predisposizione dei dichiarativi 730 la voce delle menu tabelle in generale un po' in tutte le piattaforme in tutte le procedure presenti nella piattaforma contiene delle tabelle aggiuntive e funzionali a una migliore gestione della procedura in particolare per quanto riguarda il 730 voi potreste trovare qui una tabella documenti allegati implementata dal nazionale una tabella autocertificazione sempre con delle autocertificazioni eventualmente inserite e personalizzate da parte del nazionale e potrete anche andare a visualizzare in questo caso in sola visualizzazione i parametri di calcolo per le addizionali comunali che la procedura sta utilizzando in questo momento per l'elaborazione dei 730 il menu di configurazione è di solo accesso ai responsabili quindi per oggi lo diciamo sorvoliamo sappiate soltanto che è quello che permette di andare a personalizzare il funzionamento della procedura andiamo quindi a vedere la dichiarazione 730 cioè come faccio a inserire all'interno della piattaforma un 730 nuovo quindi un 730 per la nuova campagna fiscale oppure come faccio ad andare a consultare un 730 che è già presente in archivio o perché riportato da anno precedente quindi predisposto massivamente dal mio amministratore dal mio CAF o perché magari elaborato iniziato a elaborare nei giorni scorsi e lasciato in uno stato in modifica quindi di inserimento temporaneo ma non concluso non completato l'accesso alle procedure dalle pratiche si fa appunto dal menu dichiarazioni gestione pratiche questa è la maschera di ricerca delle pratiche ho la possibilità di compilare alcuni di questi campi anche solo in forma parziale ma ho anche la possibilità di non compilare il dato e semplicemente dare l'invio o utilizzare questi link per variare l'ordinamento l'elenco delle pratiche viene di default in realtà mostrato in ordine alfabetico e i dati che vengono visualizzati già solo da questo elenco sono i seguenti codice fiscale cognome e nome del soggetto o del soggetto dichiarante del soggetto dichiarante o del soggetto dichiarante coniuge del dichiarativo 730 le date di nascita perché sono utili in caso di omonimia per distinguere eventuali soggetti la tipologia del soggetto appunto se dichiarante o coniuge di un 730 2003 il tipo di pratica ovviamente in questa fase della campagna fiscale per voi saranno tutte pratiche o cioè ordinarie ma nel corso della diciamo della maturazione della campagna fiscale del proseguo delle vostre attività è possibile che per uno stesso soggetto voi vi troviate in archivi o magari anche dichiarativi integrativi rettificativi e quant'altro quindi già da questa colonna avete la possibilità di distinguere la tipologia di dichiarativo nel quale sto entrando la colonna stato all'interno di Qweb tutte le pratiche hanno uno stato di elaborazione che viene descritto da questa leggenda che voi vedete qui in alto e si ha uno sviluppo simile a quello che adesso vi illustro le pratiche vengono predisposte eventualmente da riporto massivo da anno precedente in stato G come vedete per la maggior parte delle pratiche presenti in archivio stato G vuol dire stato da gestire da gestire sta a sottolineare il fatto che la pratica in archivio è presente per una qualche funzione automatica o massiva del software ma che richiede la gestione manuale di un operatore il fatto che una pratica sia stata da gestire vi deve già allertare sul fatto che potenzialmente nessun operatore per questa campagna fiscale è ancora entrato a visualizzare e salvare almeno una volta i dati in essa proposti nel momento in cui invece un operatore dovesse andare a elaborare una pratica e a fare un salvataggio anche solo come vi dicevo parziale e non completo dei dati di dichiarativo inseriti la pratica acquisisce come in questo caso lo stato M lo stato in modifica in modifica sta a comunicare al sistema ma anche ai colleghi e ai miei amministratori che quella pratica non è conclusa non è confermata non è stampabile non è inviabile all'agenzia delle entrate questo perché il software permette l'inserimento dei dati anche in più fasi qualora ne doveste avere la necessità senza perdere quanto inserito fino a quel momento quindi voi avete la possibilità di inserire dei dati fino a un certo punto interrompere l'elaborazione del dichiarativo perché magari il contribuente si rende conto che non vi ha portato un secondo che manca una fattura che ha degli altri documenti da cercare che è certo di avere ma che non ha disposizione in quel momento voi non perdete il lavoro fatto fino a quel momento potete salvare la pratica in stato in modifica lasciarle in sospeso eventualmente inserendo anche una notazione una nota bloccante chiara anche per i colleghi e attendere che il contribuente che il contribuente ritorni in un appuntamento successivo per portare a conclusione il dichiarativo lo stato in modifica appunto non permette la stampa e l'invio delle pratiche all'agenzia delle entrate e però nel momento in cui il dichiarativo non dovesse venire completato e non dovesse presentare più errori gravi poi vedremo che cosa significano gli errori gravi a livello di compilazione è consentito da parte dell'operatore tramite una funzione apposita e volontaria di passare lo stato da in modifica a confermata quindi allo stato C confermata vuol dire che la pratica viene chiusa viene resa in sola visualizzazione eventualmente anche solo momentaneamente perché è sempre possibile per gli operatori abilitati utilizzare una funzione di sblocco che riporti la pratica in modifica ma consente di chiudere quindi la conferma consente quindi di chiudere l'inserimento dei dati per predisporre la pratica alla stampa e quindi successivamente all'invio all'agenzia delle entrate ovviamente esistono anche delle funzioni che consentono di annullare una pratica quindi di predisporla alla cancellazione definitiva dall'archivio oppure di ripristinare una pratica annullata in precedenza questi sono gli stati presenti all'interno della procedura che vengono visualizzati già solo dall'elenco pratiche nel proseguo della campagna fiscale poi voi vedrete anche l'informazione di pratica stampata l'informazione di pratica inviata all'agenzia delle entrate l'eventuale esito di invio quindi anche la risposta dell'agenzia delle entrate che potrà essere positiva o negativa caricata dal nazionale o comunque da chi si occupa della generazione dei telematici mentre la colonna esito è una colonna interna a Qweb che va a illustrare l'esito procedurale che cosa intendo dire lo vedremo dopo nella compilazione in effettivo ma nel momento in cui voi inserirete i dati il programma effettua un controllo di massima in linea con quelle che sono le specifiche tecniche del programma di controllo SOGIE e quindi vi evidenzia in anticipo tutti quei casi che non passerebbero comunque il programma di controllo questo lo fa dandovi degli errori gravi che rendono appunto la pratica KO cioè errata e questo ne impedisce la conferma quindi la chiusura questo appunto perché una pratica con quella compilazione in ogni caso non sarebbe inviabile all'agenzia delle entrate sulla base appunto delle specifiche tecniche poi il programma dà anche altre segnalazioni altri avvertimenti e informazioni durante l'elaborazione delle pratiche che sono non così gravi e non così bloccanti ma le vedremo dopo quando andremo a fare una simulazione effettiva di compilazione gli altri pulsanti che vedete all'interno di questa maschera sono appunto il pulsante crea che è il pulsante che permette di creare una nuova pratica che io non trovo già predisposta in archivio il pulsante trova che invece appunto mi permette di cercare compilando anche in modo parziale i campi di ricerca che vedete qui in alto accessibili come vedete oppure mi permette di andare a cercare un soggetto all'interno dell'anagrafica unica qual è la diversità il trova va a cercarmi una pratica 730 già presente in archivio magari in stato G magari in stato M ma già predisposta o da un collega o dal sistema in modo massivo la ricerca in anagrafica unica invece va a cercare questo contribuente all'interno di quella calderone che è l'anagrafica unica cioè quell'insieme di tutti quei contribuenti per i quali io o i miei colleghi del CAF abbiamo predisposto una pratica qualsiasi negli anni quindi un contribuente che in questo caso Confunisco conosce perché è un cliente storico o per altri servizi di Confunisco ma che magari per me è un soggetto nuovo io posso andarlo a cercare per vedere se questo soggetto appunto è presente nell'anagrafica clienti chiamiamola così del nostro CAF Confunisco cui mi appoggio ed eventualmente usare questa funzione per andare poi a predisporre il suo dichiarativo che è quello che facciamo adesso io ho cercato un soggetto che come vedete non è presente tra i 730 predisposti ma è presente all'interno della mia anagrafica unica quindi è un contribuente noto a Confunisco ma non è un contribuente per il quale c'è un 730 2023 ad oggi lo vado a predisporre io in questo momento quindi clicco su questo soggetto vedete che il programma mi propone in automatico mi riporta in automatico il codice fiscale ho la possibilità di effettuare la ricerca in anagrafica unica anche attraverso questa lente di ricerca se voglio quindi con la possibilità eventualmente anche di cambiare soggetto più avanti con la campagna fiscale potrò anche cambiare il tipo di pratica ovviamente adesso che siamo ad aprile la procedura 730 2023 consente esclusivamente l'inserimento dei dichiarativi ordinari è possibile che nel corso della campagna fiscale io abbia magari la necessità per il medesimo codice fiscale di inserire magari un 730 integrativo piuttosto che un 730 rettificativo lo andrò a comunicare variando la combo tipo pratica che ad oggi vedrete disabilitata ma che verrà abilitata nel corso dei rilasci successivi di aggiornamento del software nel momento in cui vado avanti quindi procedo nella maschera mi trovo in questa maschera intermedia il programma mi mostra un messaggio rosso in alto che fa riferimento alla delega della precompilata questo è il controllo incrociato e diciamo la creazione guidata e agevolata interna al 730 della delega precompilata quella creazione automatica e facilitata a cui accennavo prima il programma 730 quindi in automatico va a verificare per il contribuente che ho inserito in questo campo la presenza o meno della delega alla precompilata 2022-2023 che vuol dire alla delega precompilata relativa ai redditi 2022 funzionale al dichiarativo della campagna fiscale 2023 stiamo usando la dicitura dell'agenzia delle entrate in questo momento il programma mi rileva che la delega non è acquisita non acquisita vuol dire che non ho né un non conferimento né un conferimento registrati in questo momento a sistema quindi io non potrei presentare iniziare a prestare l'assistenza fiscale perché come voi sapete da qualche anno a questa parte è obbligatorio che il contribuente esprima una scelta di conferimento o di non conferimento per quanto riguarda l'accesso ai dati della precompilata al CAF cui mi sto appoggiando per l'assistenza fiscale il programma in questo caso ha attivato una creazione automatica quindi ha già predisposto in automatico una delega ovviamente non registrata recuperando i dati di anagrafici quindi cognome nome residenza ma anche i dati del documento di identità se sono già presenti in archivio dall'anagrafica unica per aiutarmi come vi dicevo a una predisposizione guidata della delega come faccio ad andare a chiudere questa dichiarazione che tuttora risulta non completata non acquisita posso già da questa maschera cliccare sul pulsante delega precompilata vedete che mi si sta prendo un altro prodotto che ha un'altra grafica di colore verde vedete sotto al 730 e sopra mi si apre la procedura deleghe però del medesimo soggetto vedete il programma in automatico mi ha riportato i dati del soggetto mi ha predisposto la delega che però appunto è in modifica e non è registrata quindi non è conclusa non è considerata ai fini del registro cronologico per ora per completare l'inserimento di questa di questa delega posso entrare nel pulsante compila e andare a completare i dati vi faccio un piccolo inciso per come è configurato il mio ambiente di demo io ho questo tipo di visualizzazione quindi entro direttamente nel riepilogo della pratica deleghe devo cliccare sul pulsante compila è possibile che per come il CAF confunisco ha configurato il proprio ambiente reale cliccando sul pulsante delega precompilata voi vi troviate già direttamente in questa maschera di inserimento non preoccupatevi il punto è che state passando dalla procedura 730 alla procedura deleghe perché c'è una precompilata una delega alla precompilata che va conclusa prima di poter effettivamente dare attivare il servizio 730 come vedete il programma mi ha già riportato i dati che trovavo in archivio in automatico io posso variarli o integrarli per esempio potrei inserire lo stato civile del soggetto posso inserire per esempio degli altri capiti telefonici volessi posso inserire anzi in certi casi sono obbligata a inserire l'eventuale rappresentante legale o l'eventuale delegato in certi casi il programma li chiede obbligatoriamente in particolare quando il soggetto viene indicato come tutelato minore o deceduto questo a rigore di norma ovviamente ma anche qualora non fosse proposto dal programma io posso per esempio segnalare la presenza di un delegato quindi questo soggetto nonostante il fatto che abbia uno stato civile che non mi obbliga alla presenza di un rappresentante legale o di un tutore posso forzare il programma con l'inserimento di questi dati anche in questo caso posso andare a cercare il soggetto in anagrafica unica andare a inserire tutti i vari dati completare i dati e poi andare anche dai pulsanti guidati ad archiviare quelli che sono i documenti di identità in questo caso del soggetto delegato stesso discorso vale nel caso del rappresentante legale che diventa di compilazione obbligatoria come vi ho detto nel caso soprattutto di soggetto deceduto ma non solo ok vi sottolineo l'importanza dei pulsanti guidati per l'archiviazione dei documenti che sono presenti in ogni sezione perché questi vi agevolano e agevolano quindi anche il CAF nella corretta archiviazione dei documenti più che corretta in una più efficiente ed efficace archiviazione dei documenti perché dal pulsante documenti archiviati c'è la possibilità di andare a visualizzare quali e quanti documenti negli anni nel tempo sono stati archiviati collegati a questo particolare codice fiscale per consultazione invece i pulsanti specifici archiviazione documento di identità archiviazione atto di nomina per fare l'esempio del rappresentante legale tutore o erede mi permettono di andare ad archiviare dei documenti che l'agenzia delle entrate piuttosto che l'Inps se stessi parlando di una delega Inps mi richiede obbligatoriamente come documenti allegati alla delega in particolari casi per esempio nel caso di soggetto deceduto giusto per fare l'esempio di prima vedete che il flag appunto diventa obbligatorio e non è più rimovibile se io archivio un nuovo documento da questo da questo pulsante l'archiviazione identifica già il documento che sto archiviando come documento di identità del rappresentante e non per esempio come documento di identità del soggetto dichiarante in questione documento che andrò ad archiviare dalla maschera successiva nel momento in cui ho confermato e completato i miei dati anagrafici posso spostarmi nella maschera successiva anche in questo caso il programma ha riportato i dati che ha trovato a sistema in particolare i dati del documento di identità se già inseriti in anagrafica unica e i dati di reddito complessivo e differenza se trova un dichiarativo fiscale caricato a sistema in questo caso il dichiarativo fiscale che serve per le deleghe della precompilata di quest'anno sono i dichiarativi fiscali del 2022 quindi voi li potreste già trovare riportati in automatico e predisposti appunto perché il nazionale ha già importato sta importando in questi giorni gli archivi del 730 2022 all'interno della piattaforma come vedete anche in questa maschera ho dei pulsanti funzionali all'archiviazione molto importanti questi sono in realtà i pulsanti che utilizzerete nella maggior parte dei casi perché perché sono i pulsanti che vi permettono di archiviare i documenti specifici di questo soggetto quindi cliccando sul pulsante archivia ho la possibilità come vedete di iniziare l'archiviazione documentale l'archiviazione documentale si può fare in due modi o tramite il pulsante acquisisci installando un piccolo applicativo che si chiama ZMicro che permette di archiviare direttamente da scanner quindi se voi avete uno scanner in uso nel vostro studio permette di scansionare direttamente il documento e rendere visibile l'anteprima del documento funzionalmente all'archiviazione nella piattaforma Qweb oppure da file che è quella che utilizzerò in questo momento perché mi permette di andare all'interno del mio esplora risorse di andare a cercare quindi nel computer che sto utilizzando in questo momento scusate ho sbagliato cartella un documento scansionato io qua ho alcuni esempi giusto per che utilizziamo in realtà per il test e anche quindi per la formazione vedete che il programma vi mostra un'anteprima nel momento in cui voi ritenete che la scansione sia sufficientemente leggibile confermate l'archiviazione l'archiviazione è seguita con successo e in questo momento io sono a posto il programma potrebbe darmi messaggi di questo tipo in questo caso il programma mi sta bloccando perché fa un controllo di validazione sul documento che io sto caricando in particolare mi sta dicendo che questo documento non può essere associato alla delega perché in realtà io l'ho già associato precedentemente sì perché sto usando un ambiente di demo potrebbe darmi messaggi leggermente diversi per esempio potrebbe darmi un blocco qualora io inadvertitamente stessi archiviando e associando un documento o un documento di identità che in realtà ho già associato a un altro contribuente magari un omonimo ok sono controlli di automatici che fa il software per aiutarvi a evitare degli errori che nel diciamo nella nell'attività molto frenetica che capita di avere durante la campagna fiscale possono capitare invertire un soggetto con un altro magari oppure in particolare questo succede spesso in realtà sulle deleghe firmate perché come sapete la dicitura delle deleghe alla precompilata è in parte ambigua fa riferimento all'anno d'imposta e non all'anno della campagna fiscale nel quale mi servono e quindi può capitare se io avessi più deleghe dello stesso soggetto di scansionare o cercare di associare il documento la delega sbagliata perché magari sto in questo momento archiviando la precompilata invece ho in mano la delega per la CU o viceversa sto archiviando la delega CU e invece sto scansionando la delega la precompilata sono cose che succedono quindi il programma ha attivato ha integrato una serie di controlli che nelle nostre intenzioni vi evitano problemi in fase successiva con gli enti perché nel momento in cui si mandano poi le deleghe con i documenti allegati identificati non è semplice sostituire un pdf con un altro perché l'agenzia delle entrate ma anche l'inps ha modo di identificare specificatamente quel file pdf quindi anche se io riscansiono la carta di identità per l'agenzia delle entrate sono due documenti diversi perché l'identificativo del file che io mando contestualmente alla richiesta della precompilata è diverso da file a file da scansione a scansione quindi questi controlli che potrebbero capitare durante la vostra attività ecco non fate come me che ho chiuso il messaggio ma prestate attenzione a cosa vi sta dicendo il programma perché sono suggerimenti che magari in questo momento vi sembrano fuori luogo ma in realtà sono funzionali all'evitare errori e dall'aiutare voi e il CAF in fase di controllo poi da parte dell'agenzia dei funzionari dell'agenzia delle entrate in questa sezione dei dati del documento di identità vi segnalo una novità fiscale di quest'anno presente anche nel 730 il flag di illetterato impossibilitato alla firma il soggetto come anche spiegato un po' nell'info che vedete qui in fianco il soggetto illetterato o impossibilitato alla firma è un soggetto che nel proprio documento di identità riporta proprio mi sentite credo fosse saltato l'audio per qualche sì dottoressa tutto bene perfetto dicevo l'illetterato impossibilitato alla firma deve essere una caratteristica certificata del contribuente che voi potete inserire sia all'interno di deleghe che all'interno del 730 appunto per permettere la discesa di una dicitura particolare in fase di stampa che evidenzi lo stato di soggetto illetterato o impossibilitato la firma vedete che anche qui il programma vi ricorda che questo flag deve essere impostato solo in modo opportuno perché questa caratteristica deve essere deve essere effettivamente certificata ma come vi dicevo appunto è una novità introdotta quest'anno anche all'interno del visto di conformità per chi di voi dovesse avere la possibilità di dargli un'occhiata sempre tra i dati riportabili in automatico all'interno della piattaforma come vi dicevo sono appunto i dati di reddito fiscale io in realtà in questo caso li avevo funzionalmente a questa presentazione variati utilizzando il pulsante riportadati posso recuperare i dati corretti quindi come vedete il programma mi dice che ha rilevato un 730 2022 presente in piattaforma e mi ha riportato i dati corretti qualora il contribuente dovesse comunicarmi di aver presentato poi in realtà un dichiarativo integrativo una procedura un altro dichiarativo redditi per esempio che non ho gestito io come CAF ma del quale lui mi presenta la stampa e appunto la certificazione di invio io ho sempre la possibilità se sono abilitato di forzare questi dati e quindi di andare a variarli qualora quello che il sistema mi riporta in automatico non fosse in realtà corrispondente all'ultimo effettivo dichiarativo presentato dal contribuente anche per quanto riguarda la data di sottoscrizione in fase di stampa il programma mi proporrà la data di sistema quindi in questo caso 3 aprile 2023 ma qualora io avessi un cartaceo raccolto magari in precedenza potrei per esempio inserire una data diversa manualmente ho la possibilità di inserire delle note e ho la possibilità di andare a allegare ed associare i documenti qualora fossero già presenti in archivio per esempio vedete che in questo caso io ho due documenti di identità ovviamente questo perché un contribuente potrebbe avermi presentato non so la patente o il passaporto per fare la DSU e la carta di identità elettronica per fare per esempio una pratica RED negli anni scorsi quindi potrei avere più scansioni presenti in archivio devo scegliere in questo momento per la delega mi ha presentato la carta di identità posso andare a visualizzare l'anteprima ritengo che sia questa l'anteprima del documento che corrisponde ai dati che ho inserito quindi vado ad associare questo specifico documento di identità queste sono le archiviazioni contestuali integrate nella procedura se utilizzate questi pulsanti il programma già vi evita possibili errori a questo punto io posso concludere o fare chiudere salvo oppure concludere quindi chiudere salvare ma anche lanciare in stampa la mia delega alla precompilata che come vedete riporta non so se la visualizzazione perdonatemi è sufficientemente grande ma comunque vedete che all'interno di questo pdf sono presenti un codice a barre che aiuta appunto quei controlli che vi dicevo di congruenza che il sistema fa ma anche un QR code come richiesto dall'agenzia delle entrate già dall'anno scorso questo è il modello che viene proposto qui dovrà essere effettivamente inserita la firma del contribuente una volta che ho terminato la conferma e anche la stampa vedete che la delega viene registrata ve ne rendete conto perché compare un identificativo delega quell'identificativo delega funzionale a registro cronologico e però rimane un'informazione relativa all'archiviazione in alto in rosso il programma mi sta comunicando che non ho completato l'archiviazione dei documenti per questa delega posso andare dal pulsante associa documenti a vedere che cosa manca e in effetti manca la delega firmata è plausibile l'ho appena stampata avendola appena stampata devo ancora avere il tempo di raccogliere la firma olografa del soggetto e scansionarla quindi a questo punto posso dal pulsante documenti archiviati andare ad archiviare il nuovo documento in questo caso io utilizzerò da file ma voi potreste utilizzare lo scanner e andare a scansionare il mio documento andare a scegliere una qualsiasi precompilata vederne l'anteprima la qualità e poi confermare l'archiviazione a quel punto avendo io effettuato l'archiviazione sempre dall'interno del programma deleghe utilizzando i pulsanti dedicati è il programma stesso che mi ha eseguito l'associazione in automatico non ho dovuto fare altro altrimenti ho sempre la possibilità di cliccare manualmente sulla sull'icona di allega e scegliere una scansione che magari io ho fatto dal 730 in altro momento l'ha fatto mio collega che si occupa esclusivamente dell'archiviazione di variare quanto proposto dal programma salvo a questo punto vedete che l'avviso di archiviazione parziale è scomparso la mia delega è pronta per l'invio della richiesta della precompilata posso chiudere il programma deleghe e andare effettivamente a proseguire con quello che è il mio servizio 730 quindi posso fare avanti per aggiornare la verifica come vedete è variato il messaggio adesso la delega risulta risulta la risulta conferita e con il pulsante prosegui posso entrare effettivamente in compilazione il programma mi propone in questa fase successiva il riporto dei dati quali e quante fonti potrei trovare in questa maschera dipende dal contribuente in questo caso ho esclusivamente il 730 2022 è possibile che nel corso della campagna fiscale io abbia la possibilità di vedere per esempio il riporto dalla precompilata se fosse già presente in archivio e se non ci fossero altri dichiarativi fiscali presenti all'interno del sistema oppure potrei visualizzare la possibilità di riportare anche dal dichiarativo redditi oppure sempre da un dichiarativo 730 ma magari integrativo o rettificativo in questo caso avrai diverse opzioni l'operatore sceglie da quale procedura riportare da quale fonte riportare i dati noi diamo sempre la precedenza ai dichiarativi fiscali rispetto alla precompilata perché come vedrete possono contenere dei dati integrativi aggiuntivi che non sono presenti nella precompilata ma che sono molto utili per voi alla fine anche degli abbattimenti degli oneri in modo corretto proseguo con la creazione del mio dichiarativo ed entro finalmente in quella che è la compilazione del 730 quindi quello che è il nostro argomento clou della giornata il dichiarativo 730 spero sono andata molto veloce perché appunto le domande diciamo le argomenti di oggi sono molto densi ma mi avevano sottolineato l'importanza di fare un approfondimento per quanto riguarda il prodotto deleghe e un approfondimento in particolare per quanto riguarda l'archiviazione documentale che è molto molto importante per il CAF ma anche per voi come professionisti ai fini delle delle verifiche vedo che qualcuno ha qualche problema con il sondaggio di presenza quindi lascio magari due secondi la parola al collega di Lido no dottoressa può proseguire perché come ho anche scritto il sondaggio il primo è stato chiuso adesso vediamo gli altri ok il sondaggio compare lo dico alla alla signora scapolatempo il sondaggio compare a video si sovrappone alla maschera che state visualizzando quindi se è arrivata appena ora non lo avrà visto magari altrimenti compare in diretta e si sovrappone alla videata che avete davanti comunque tra un po' farà la sosta credo la dottoressa e poi ce ne saranno altri due per questo primo giorno poi sarà il dottor Altamura a valutare ma insomma la preghiera è sempre quella perché adesso arrivando alla spicciolata è ovvio che non tutti hanno ascoltato la presentazione quindi la dinamica non è magari nota anche se l'abbiamo ribadita nella comunicazione fatta dal dottor Altamura quindi oggi è di rodaggio però l'attenzione deve essere deve essere insomma piena prego dottoressa prosegua sì Beppe scusami poi le situazioni particolari eventualmente le possiamo pure verificare come hai detto tu oggi è una giornata di rodaggio se c'è qualche piccolo diciamo piccola correzione da fare poi insomma la riusciamo a gestire tranquillamente grazie Beppe perfetto grazie gentilissimi allora proseguo con la spiegazione di quella che è la compilazione effettiva del prodotto 730 la visualizzazione in realtà un po' di tutte le procedure lo vedrete anche con il mio collega l'avete un po' visto velocemente con Deleghe ma lo vedrete anche con il mio collega che vi presenterà le procedure DSU collegate diciamo ai servizi IMS hanno una grafica abbastanza comune anche qui cerchiamo di portare a rendimento quello che è il funzionamento della procedura in modo che voi imparato il meccanismo il funzionamento in uno di questi prodotti possiate come dire replicarlo o trovare un effetto di facilitazione nel momento in cui vi trovate magari a utilizzare un altro prodotto della stessa piattaforma per la prima volta la struttura in generale delle nostre procedure è quella che adesso vi illustro è presente in genere un menu a sinistra che ripercorre le schermate o delle cartacee o del modello o comunque le schermate utili alla compilazione attraverso le quali ci si può spostare semplicemente come avete visto cliccando sulla voce ok è presente una parte centrale che varia come avete visto a seconda di qual è il quadro o la voce di menu del menu di sinistra nella quale mi sto spostando e che chiede l'inserimento dei diversi dei diversi campi sono presenti sempre a sinistra ma in basso i due pulsanti salva chiudi e salva oppure come avete visto prima concludi in alcune procedure per esempio come nel programma deleghe che il concludi equivale a un chiudi salva e stampa è una funzionalità rara presente credo esclusivamente nel programma deleghe che prevede una chiusura complessiva della stampa questi sono i tre pulsanti che potreste trovare nelle diverse procedure qui in basso a sinistra in alto a destra invece sono presenti una serie di icone di ausilio le istruzioni per esempio nel caso del 730 sono le istruzioni complete del dichiarativo 730 e l'estratto delle istruzioni ministeriali specifiche del quadro in cui ci troviamo la guida al visto di conformità per quanto riguarda il 730 per ogni campo nel quale ci si posiziona c'è un help contestuale in basso che riporta le istruzioni ministeriali specifiche per quel campo quindi anche quello vi aiuta vi aiuta diciamo nella compilazione poi a seconda delle procedure ci sono anche delle icone di utilità più specifiche per esempio per quanto riguarda il 730 sempre nella zona in alto a destra è possibile tramite questa funzione di note inserire delle annotazioni o delle note bloccanti all'interno della piattaforma e possono essere appunto annotazioni libere oppure potrebbero essere annotazioni tabellate se il mio amministratore le ha predisposte potrei visualizzare delle annotazioni inserite dal mio amministratore e allo stesso modo queste annotazioni possono essere appunto libere oppure bloccanti bloccanti sta a indicare che bloccano la conferma della pratica l'esempio che avevo fatto prima mancano documenti la mancanza di documenti quindi per esempio una seconda CU piuttosto che delle fatture piuttosto che degli oneri sono ovviamente potrebbero essere delle delle informazioni che comportano la non completezza del dichiarativo in questo momento quindi io potrei inserire questa annotazione già mentre sono in compilazione in modo da non dimenticarmi che questo dichiarativo non lo posso concludere per ora lo posso magari riprendere nel pomeriggio tra due giorni tra una settimana quando il contribuente mi completa la consegna dei documenti l'icona IMU all'interno del 730 è quella che mi permette di aprire in parallelo la procedura IMU che non è oggetto del corso di oggi ma ve lo accenno perché permette la doppia gestione in parallelo della pratica IMU quindi per il calcolo dell'imposta IMU o ILIA a seconda di qual è il comune nel quale mi ritrovo e l'icona di storit quella che mi permette di fare l'archiviazione dei documenti non mi soffermo su questa icona perché questa è l'icona di archiviazione generica mentre confunisco vi richiederà prevalentemente l'archiviazione contestuale ai righi che vedremo dopo soprattutto quando andremo a parlare dell'archiviazione degli oneri nei quadro E con la compilazione dei vari righi e anche l'archiviazione dei documenti ad essi collegati iniziamo con quello che è il dichiarativo 730 in senso stretto come vedete il programma mi riporta i dati che già trova all'interno della piattaforma in anagrafica unica una delle novità di quest'anno come vi dicevo è il flag appunto di letterato o impossibilitato la firma del quale abbiamo già parlato nel programma deleghi quindi sul quale non mi soffermo ulteriormente all'interno della piattaforma ho la possibilità per esempio nel quadro anagrafico di riportare le scelte che il contribuente dovesse aver fatto l'anno precedente oppure di compilarle ex novo una novità di quest'anno per quanto riguarda l'otto per mille per esempio all'introduzione della chiesa d'Inghilterra in Italia come scelta selezionabile allo stesso modo posso riportare le scelte del 5 per mille oppure posso andare a ricercare e compilare il mio la mia scelta il mio beneficiario così come mi viene dettato dal contribuente oppure se il contribuente ricorda la denominazione dell'ente per esempio ma non il codice fiscale posso andare a cercare tramite pulsante pubblicati questo soggetto all'interno degli enti pubblicati negli elenchi ufficiali dell'agenzia delle entrate questo lo stesso vale per la scelta del 2 per mille vi verrà proposta come probabilmente vi verrà proposta come non firmata perché la maggior parte statisticamente la maggior parte delle schede non contiene la firma del 2 per mille ma voi avete sempre la possibilità eventualmente di andare a indicare una qualsiasi scelta da parte del contribuente così come avete la possibilità di inserire eventualmente le anomalie presenti sul modello cartaceo che il contribuente vi ha presentato per quanto riguarda il quadro anagrafico l'unica altra informazione interessante è la possibilità appunto di copiare la residenza sia per quanto riguarda il domicilio fiscale sia per quanto riguarda il domicilio all'1-1-2023 quindi sia per l'acconto che per il saldo e vi segnalo le combo che si attivano solo all'occorrenza per quanto riguarda l'inserimento di eventuali casi particolari degli addizionali che per quest'anno sono rimaste per le regioni di Veneto Lazio e Marche quindi soltanto qualora l'addizionale regionale facesse parte di una di queste tre regioni voi vedete attive questa combo che vi permette di compilare il caso quando opportuno lo stesso discorso si può fare per la casella di fusione comuni nel momento in cui io dovessi andare a indicare un domicilio fiscale all'1-1-2022 o all'1-1-2023 che fa parte dell'elenco dei comuni che hanno subito appunto la fusione si attiverà la possibilità di compilare questa tendina con anche l'eventuale controllo di obbligatorietà qualora fosse necessario ai fini di un calcolo corretto del 730 sempre nel quadro anagrafico ho la possibilità di indicare l'eventuale data di variazione di residenza e la possibilità di comunicare all'agenzia delle entrate che per il contribuente si tratta del primo anno di presentazione della dichiarazione dei redditi in alto invece ho la possibilità di indicare la casistica di soggetto fiscalmente a carico di altri e ho la possibilità poi di indicare eventualmente lo stato civile con la possibilità qualora io indicassi lo stato civile coniugato separato di andare anche a variare il tipo di dichiarazione da singola a congiunta semplicemente andando a selezionare un 730 già presente in archivio oppure indicando il codice fiscale a mano e utilizzando il pulsante congiungi che vedete attivarsi vicino al campo in questo modo come vedete io ho trasformato una pratica da singola a congiunta l'elenco dei quadri mi viene replicato anche per il coniuge e ho la possibilità di salvare i dati finora inseriti compaiono come vedete una serie di pallini rossi o verdi a seconda che il quadro rilevi degli errori gravi sui quali torneremo più tardi ma in questo momento mi fermerei come d'accordo per un piccolo break di una decina di minuti un quarto d'ora come concordato ci fermiamo qui io esco momentaneamente dalla pratica sì e riprendiamo il discorso dopo la pausa bene allora dieci minuti di pausa e riprendiamo a più tardi sì Grazie. 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 Dottoressa, allora ci siamo? Grazie. Sì, sì, in realtà vi aspettavo già un po'. Eh sì, io. Ma non c'è problema. No, no, ma non c'è problema. D'accordo. D'accordo. A distanza è difficile percepirsi, in effetti. Non avevo voglia di accelerarvi il caffè di mezza mattina. Se mi sblocca la condivisione... Prego, prego. Può fare, può fare. Grazie. Perfetto che così riprendiamo il discorso. Allora, ci siamo lasciati prima avendo creato una prima pratica 730, verificandone la presenza delle deleghe, guardando il completamento della delega, l'archiviazione dei documenti, il riporto dei dati da anno precedente, fino al quadro anagrafico e la congiunzione con un altro soggetto. Quindi la trasformazione di una pratica da pratica singola a pratica congiunta. Dopodiché a chiusura del corso appunto io ho salvato la pratica temporaneamente in modifica con i dati fin quel momento inseriti. Infatti vedete che la ritrovo qui in archivio e posso rientrare in compilazione. Ne approfitto per descrivervi un po' questa maschera. Questa maschera è la maschera diciamo di copertina di gestione pratica. Per noi l'intento è in questa fase di farvi visualizzare una sorta di cover, l'equivalente di una copertina cartacea, no? Con i dati sintetici di un dichiarativo, quindi il soggetto dichiarante con l'eventuale recapito telefonico e email, l'eventuale soggetto coniuge quando è presente il sostituto di imposta, il tipo di pratica, che in questo caso è ordinaria congiunta, la parte di archivio cui attiene, quindi il CAF sede zona nel quale questa pratica è inserita, l'eventuale presenza di note bloccanti o di annotazioni in modo che già dall'esterno un operatore o un collega possa andare a visualizzare che cosa è rimasto in archivio come annotazioni bloccanti o meno su questo soggetto, lo stato ovviamente modifica, l'eventuale risultato contabile in questo momento non c'è perché non ho ancora inserito nessun reddito, ma eventualmente io avrei già da qui la possibilità di vedere il temporaneo risultato contabile, di visualizzare il prospetto di liquidazione temporaneo, lo stato errata con la possibilità di visualizzare le segnalazioni che il software sta dando in questo momento, lo stato della delega per entrambi i soggetti, in modo che eventualmente io dal pulsante elenco deleghe dichiarante o elenco deleghe coniuge abbia la possibilità di entrare nel prodotto deleghe in modo facilitato e accelerato per andare a completare qualora ne avessi la necessità anche la gestione delle deleghe di quei soggetti. Nella parte in basso poi vedo l'avanzamento lavori di questo soggetto, quindi la data di ultimo salvataggio, di ultima elaborazione, l'eventuale data e login di conferma, di confronto massivo o singolo con la precompilata, molto importante come sottolineava il dottor Altamura all'inizio di questa riunione per la verifica da parte vostra dei dati inseriti, quindi per avere un ulteriore controllo e conferma di quanto inserito, la data di conferma dell'eventuale stampa del documento in bozza solo base oppure completo di barra 3 e le eventuali informazioni relativi alle deleghe F24 qualora si tratti di una pratica che necessita, perché magari senza sostituto, di una rigenerazione di deleghe F24. Nei pulsanti che vedete invece qui sulla destra sono i pulsanti che mi permettono il chiudipratica di tornare nell'elenco delle dichiarazioni, elenco 730 soggetto mi permette di visualizzare tutti i dichiarativi per questa campagna fiscale di quel soggetto, quindi nel caso siano presenti anche dichiarativi integrativi, rettificativi di spostarmi da una pratica all'altra del medesimo soggetto per la stessa campagna fiscale, come detto i due pulsanti per l'accesso al programma deleghe di dichiaranti e di coniugi, in questo caso in modo facilitato e accelerato, il pulsante di compila che adesso utilizzerò per entrare in compilazione e completare l'inserimento dei dati, le funzioni di utilità per la stampa della bozza, per la visualizzazione della cronologia della pratica, perché come vedete ogni operazione fatta su questo dichiarativo compresa la visualizzazione viene registrata a sistema con la data ora e la login dell'operatore che ha eseguito la funzione, la possibilità di annullare o ripristinare il dichiarativo, i pulsanti per l'archiviazione dei documenti anche dall'esterno della pratica e vi chiederei cortesemente di tenere appunto i microfoni spenti, la possibilità di andare a gestire il consenso alla privacy per il dichiarante o per il coniuge qualora non lo avessi già fatto in precedenza o avessi necessità di fare delle variazioni e poi ci saranno altri pulsanti che si abiliteranno a seconda dello stato della pratica. Entriamo in compilazione. Una volta entrati in compilazione è possibile visualizzare le annotazioni inserite dal collega, io posso decidere di non visualizzarle più e di andarle ad aprire esclusivamente a comando dall'icona in alto a destra. Eravamo arrivati al quadro anagrafico e alla possibilità di congiungere o disgiungere un dichiarativo. In chiusura della prima parte del corso avevamo inserito il codice fiscale del soggetto e utilizzato il pulsante congiungi. Ovviamente nel momento in cui il dichiarativo invece dovesse essere congiunto ho la possibilità di agire in senso inverso, quindi di disgiungere il dichiarativo e di tornare a una dichiarazione singola. La medesima strategia la utilizzo nel momento in cui ho la necessità di invertire dichiarante coniuge, ovvero prima disgiungo in modo da avere in archivio i due dichiarativi singoli salvati come singoli, dopodiché entrerò in compilazione all'interno della pratica del soggetto che deve diventare il nuovo dichiarante e agirò sul pulsante congiungi in modo inverso, in modo che il soggetto che prima era coniuge diventi dichiarante e viceversa. Non ci sono altre novità o fiscali o di procedura all'interno del quadro anagrafico, vi segnalo qualora ne aveste la necessità che è possibile all'interno del quadro anagrafico inserire i dati del documento di identità direttamente dal compilativo del 730, questa è un'informazione molto utile per voi che state passando da un'altra piattaforma all'interno di Qweb e la funzione se siete abilitati per la modifica del codice fiscale tramite questo pulsante. Questo è da usarsi soltanto nel momento in cui un soggetto da una campagna fiscale all'altra ha variato codice fiscale. In questo caso io parto con il 730 2023 utilizzando il codice fiscale dell'anno precedente in modo da poter sfruttare le funzioni di riporto dei dati e di recupero delle informazioni dai dichiarativi dell'anno precedente e solo dopo il primo salvataggio di questi dati vado ad agire sul pulsante di modifica codice fiscale per variare il codice fiscale del soggetto senza perdere i dati riportati da anno precedente o eventualmente già inseriti. Per quanto riguarda, come vi dicevo utilizzando le voci di menu sulla sinistra mi sposto da un quadro all'altro, nel momento in cui si esce da un quadro il programma mostra l'elaborazione parziale del quadro da cui sto uscendo. In questo caso sta rilevando una compilazione particolare che potrebbe essere errata ma anche no. Quindi in questo caso non dà un errore grave che impedisce la conferma della pratica e il superamento del programma di controllo e l'invio della pratica all'agenzia delle entrate ma evidenzia un alert, segnala all'operatore una compilazione non frequente, non comune quindi una compilazione che potrebbe essere errata ma che a successiva verifica dell'operatore potrebbe anche essere corretta. Quindi in questo caso il programma segnala semplicemente una situazione che è opportuno di compilazione che è opportuno verificare. In questo caso io so perfettamente di aver fatto una compilazione particolare per potervi mostrare le addizionali regionali di Marche e quindi ignoro momentaneamente la segnalazione perché la mia compilazione so essere corretta e proseguo nel quadro di destinazione che avevo selezionato. Questo è il quadro sostituto, all'interno del quadro sostituto io mi vedrò riproposto il sostituto dichiarato l'anno precedente con l'obbligo di verifica, quindi l'operatore avrà l'obbligo di compilare questo flag manualmente per confermare a sistema che il sostituto riportato e proposto dall'anno precedente è effettivamente rimasto quello, oppure con la possibilità di indicare o un altro sostituto quindi andando a cancellare il sostituto e andando a ricercarne un altro all'interno del mio archivio sostituti della mia grafica sostituti che abbiamo visto prima oppure andando a segnalare che da quest'anno il soggetto per quest'anno è senza sostituto secondo le varie necessità. Salto momentaneamente il quadro modelli CU su cui torneremo dopo quando affronteremo il quadro C e mi sposto su quello che è il quadro familiari a carico. Il quadro familiari a carico è uno dei quadri sui quali ci sono state delle notevoli novità fiscali quindi è un argomento che presumibilmente affronterete molto con gli esperti fiscali nelle prossime giornate di formazione. A livello di procedura io vi segnalo semplicemente che come vedete il quadro ripropone quello che è in parte il layout del modello fiscale a disposizione per cui semplicemente rispetto agli anni scorsi abbiamo aggiunto le colonne 9 e 10 come previsto da normativa. Come molti altri quadri questo quadro ha la possibilità di essere copiato da un altro soggetto o dal soggetto coniuge nel caso in cui si tratti di una pratica congiunta. Ho la possibilità appunto di vedere i familiari riportati da anno precedente ma con la necessità di confermare i mesi e le percentuali a carico valide per il 2023 posizionandomi nel campo codice fiscale e spostandomi con il tab vedete che il programma fa già una proposta sensata sulla base della data di nascita del familiare anche per quanto riguarda le colonne 9 e 10. Tuttavia io ho sempre la possibilità come vedete di agire manualmente ovviamente sempre nei limiti fiscali questa compilazione vedete che non è ammessa questa invece sì per esempio no ovviamente rimane la necessità di compilare le percentuali come vi dicevo i mesi a carico complessivi perché questi potrebbero effettivamente essere variati. Io adesso ho inserito all'interno di questa maschera dei dati di esempio anche per ripassare o accernarvi velocemente a quella che è la novità fiscale di quest'anno perché voi sapete che con l'introduzione dell'assegno unico soltanto i figli a carico che hanno un'età maggiore o uguale ai 21 anni hanno diritto alle detrazioni per figli a carico all'interno del dichiarativo 730. Per questo motivo per esempio il programma mi propone una serie di mensilità che come vedete collima con quella che è la situazione del figlio di anagrafica diciamo del figlio in questione per esempio nel primo caso il figlio è nato negli anni 2000 quindi ha già 22 anni per tutto ha avuto 22 anni per tutta la campagna fiscale per tutto l'anno di reddito di interesse cioè per il 2022 pertanto il programma mi propone due mesi di detrazione a carico per i primi due mesi dell'anno gennaio febbraio e dieci mesi quindi ad arrivare al massimo possibile dei 12 mesi per quanto riguarda le altre mensilità perché per questo figlio io non avevo diritto all'assegno unico per tutta l'annualità diverso il discorso per esempio per questo secondo figlio per il quale essendo nato a maggio dell'anno 2001 c'è stato il compimento dei 21 anni nel corso dell'anno di interesse. In questo caso infatti vedete che il programma pur partendo da un totale di mesi di 12 non mi propone due più dieci come per il primo figlio ma mi propone due più otto perché per una parte di anno cioè per due mesi questo soggetto in realtà ha avuto diritto all'assegno unico e quindi non non avrebbe diritto per questi due mesi alle detrazioni in sede di 730 questa è la logica di proposta del del programma. Gli altri familiari non subiscono la variazione di normativa di quest'anno quindi io andrò semplicemente a compilarli come da normativa senza compilare appunto le colonne 9 e 10. Mentre ho la possibilità appunto di inserire anche dei figli che hanno magari la necessità di essere inseriti perché danno diritto alle detrazioni quindi mi permettono di poter portare in detrazione delle spese collegate a quei figli per esempio le spese mediche ma magari non mi danno diritto specificatamente alle detrazioni per i figli a carico per esempio come in questo caso per un figlio nato nel 2021 e che quindi non ha diritto alle detrazioni in sede di 730 perché teoricamente coperto da un eventuale assegno unico. Ho la possibilità eventualmente di inserire anche un nuovo nato ovviamente quindi inserendo il codice fiscale opportuno sulla base del quale appunto poi il programma mi propone come vedete in questo caso i mesi ma in questo caso l'inserimento di questo figlio è soltanto funzionale poi all'inserimento delle detrazioni collegate a quel figlio perché per questo figlio non ho diritto a detrazioni per figli a carico essendo nato a maggio del 2022 non ho diritto a nessuna di queste due compilazioni. Ovviamente poi il programma propone o fa dei controlli di compilazione sui righi per esempio in questo caso mi ricorda che non ho compilato la percentuale per ulteriore detrazione per familiari a carico pur avendo almeno quattro figli per cui io posso qua andare a indicare una percentuale. C'è sempre la possibilità di inserire un figlio in affido preadottivo quindi senza codice fiscale ovviamente in questo caso il programma non può fare una proposta dei mesi ma dovrete inserirla voi sulla base dei dati del figlio e sarà obbligatoria la compilazione dei numeri dei figli in affido preadottivo a carico del contribuente. Come detto l'intero quadro familiari è copiabile da un'altra pratica presente in archivio o dall'eventuale coniuge in caso di dichiarazione congiunta ed è ovviamente un quadro che è possibile poi anche visionare qualora fosse stato caricato per esempio la certificazione unica dell'Inps o la certificazione unica di un'azienda qualora voi avesse la possibilità di caricare le certificazioni uniche di un'azienda dalla funzione importazione certificazione uniche per CAF vi dà la possibilità tramite un'icona qui in alto di visualizzare quali sono i figli a carico presenti nella certificazione unica. In questo caso provenendo da certificazione unica sono visionati ma non riportabili perché ovviamente non è detto che il contribuente abbia voglia o abbia convenienza a replicare la medesima dichiarazione all'interno del quadro. Salto velocemente il quadro dei terreni perché è molto simile strutturalmente al quadro dei fabbricati e perché non ci sono novità di interesse diciamo per quanto riguarda la fiscalità quindi non ci sono novità fiscali per l'anno 2023 in corso. Il quadro degli immobili come vedete mi viene riproposto dal dichiarativo dell'anno precedente ho la possibilità tramite l'icona di confronto immobili di confrontarmi sia con una pratica IMU dell'anno precedente sia con la pratica IMU dell'anno in corso aumentano le funzioni di utility per il quadro degli immobili perché anche qui ho la possibilità di copiare gli immobili da un'altra pratica di copiare gli immobili vi chiederai di spegnere i microfoni di copiare gli immobili dall'eventuale soggetto coniuge ho la possibilità se ho a disposizione una visura ufficiale scaricata di importare anche la visura e quindi di comporre di creare il mio quadro immobili da tramite importazione da visura qualora avessi un contribuente nuovo e ho una funzione di ripartizione di affitto che quindi mi permette di suddividere un affitto unico tra più di un immobile sulla base della rendita. Altre funzionalità utili sono per esempio il riporto del canone dall'anno precedente quindi il programma mi permette di visualizzare il canone dichiarato l'anno prima e anche la presenza di eventuali casi particolari dichiarati nell'anno precedente io posso riportarli tramite il pulsante di riporta ed eventualmente sbiancarli qualora come in questo caso il locato senza percezione di canone non si sia ripresentato per l'anno fiscale successivo posso sempre ovviamente fare delle variazioni se per caso è variato qualcosa nelle mie dichiarazioni posso sempre aggiungere un immobile e una informazione interessante per voi che siete nuovi clienti per l'utilizzo di questo quadro sono le utility di calcolo. Allora questo che io vi ho fatto vedere è una compilazione da sintetico il nostro consiglio è per quanto riguarda gli immobili di passare da una compilazione di dettaglio vi faccio vedere perché forse sono andata un po' velocemente l'ingresso nel dettaglio si fa da questa icona a forma di lenti di ingrandimento ed evidenziata in arancione mi permette di inserire come vedete dei dati aggiuntivi che non sono funzionali al 730 ma che potrebbero essere funzionali per esempio per il riporto di questo immobile in sede di DSU per esempio o di dichiarativo IMU perché mi permette un calcolo preciso un confronto preciso degli immobili tra 730 e IMU e quindi anche il riporto dei dati da 730 verso IMU non posso copiare in IMU un immobile che non è stato compiato da dettaglio quindi siccome nel vostro caso è il primo anno di passaggio io vi consiglierei per questo primo anno di compilare, integrare gli immobili per il più possibile all'interno del dettaglio perché questo diventerà a regime e quindi nella gestione di altri dichiarativi o nella gestione delle campagne fiscali future diventerà per voi un vantaggio ci sono come vi dicevo anche delle utility di calcolo in particolare vengono evidenziate, non so se si vede da questi triangolini neri in alto a sinistra facendo doppio clic per esempio sul campo giorni c'è la possibilità di far fare al programma il calcolo dei giorni di possesso di un particolare immobile così come per quanto riguarda la percentuale nel caso io dovessi aver avuto una variazione tramite acquisizioni o cessioni di parti degli immobili quindi ho la possibilità di far calcolare al programma la percentuale corretta rideterminata da indicare alla fine di tutte queste movimentazioni di possesso avvenute nell'anno precedente ho anche la possibilità già dal quadro degli immobili di andare a indicare le eventuali ritenute funzionali alla compilazione del rigo F8 in caso di locazioni brevi per cui senza rischiare di dimenticarmi ho la possibilità di andare per esempio a indicare qui la situazione di locazione breve e andare per esempio a indicare l'importo se avessi compilato il rigo in modo corretto in questo caso io non ho compilato il rigo in modo corretto e quindi il programma mi blocca però il senso di avere già un dettaglio per l'F8 in questo campo è che se sto inserendo l'immobile probabilmente l'informazione delle ritenute già subite ce l'ho già in mano rischio nel passaggio della compilazione di dimenticarmi di inserire ora che arrivo al quadro F8 che è uno degli ultimi e quindi ho la possibilità di inserirle già dal quadro degli immobili ho la possibilità poi di riordinare gli immobili come vedete con queste funzioni di spostamento in modo da allineare l'elenco dei miei immobili a quello che mi arriva dalla precompilata anche per una poi lo vedremo per una migliore confronto di dati mentre nel momento in cui avessi la necessità di inserire un rigo di continuazione è sufficiente impostare il flag nelle colonne che hanno questo asterisco per segnalare appunto una continuazione come vi dicevo non ci sono variazioni per quanto riguarda appunto la normativa fiscale per cui non ci sono grosse indicazioni in questo caso il programma mi dà delle segnalazioni come avete visto al cambio quadro io ho fatto una compilazione veloce che non era corretta ma il programma mi aveva segnalato che stavo omettendo un dato importante quindi sono tornata all'interno del quadro per sistemarlo quando il quadro è corretto il pallino diventa di colore verde quindi mi sta a indicare forse si vede, non so se si veda perché io adesso ho il riquadro di condivisione che mi copre proprio il punto ma vicino al descrittivo del quadro ci dovrebbe essere un pallino verde che mi sta a indicare che in quel quadro sono presenti dei dati uno, due che i dati inseriti sono conformi alle specifiche tecniche di SOGEI che non vuol dire che siano corretti vuol dire che supererebbe il controllo ovviamente la verifica di correttezza spetta a voi sulla base della documentazione da una parte e della precompilata dall'altra che vi arriverà andiamo a guardare l'inserimento dei redditi per quanto riguarda l'inserimento dei redditi la nostra procedura prevede in realtà un macro dettaglio che visualizzate qui in alto che ha denominato modelli CU che adesso vi faccio vedere vi chiederei di spegnere i microfoni cortesemente altrimenti c'è un ritorno in cuffia che forse rimane anche nella registrazione dei colleghi allora là il quadro modelli CU dovete intenderlo come un macro dettaglio che nelle nostre intenzioni vi dovrebbe aiutare nell'inserimento in piattaforma di quelle che sono le certificazioni uniche che i contribuenti vi mostrano e vi presentano potreste avere dei dati già precaricati nel senso che se voi aveste per esempio un pensionato che vi ha compilato una delega CU e voi avete già richiesto in cooperazione applicativa la certificazione unica dall'INPS e l'avete ottenuta positivamente in questa sezione vedreste dei dati già precaricati con l'informazione di serbatoio INPS o cooperazione INPS come provenienza manuale sta invece a indicare che io sto inserendo il dato per l'appunto manualmente quindi io dico che questa è la prima CU del sostituto A giusto per identificarle questi sono dati ovviamente opzionali e non faccio altro che andare a copiare quelle che sono le informazioni che io visualizzo nel cartaceo o nei campi specifici per i quali vedo i punti richiesti o nelle annotazioni indicate a video e copio semplicemente i dati in questo caso io sto inserendo ho inserito i redditi come indeterminato ho inserito ho lasciato la proposta di 365 giorni ma poi ci torniamo per variarla le varie ritenute posso andare a indicare se ci sono anche degli oneri già presenti da CUD per esempio vado a indicare quello che sia se è presente il mio trattamento obbligatorio per esempio una previdenza complementare posso andare a inserire per esempio un'erogazione in natura o un bonus carburanti se fosse presente posso andare a indicare i miei premi di produzione indicando il limite vedete che ogni campo che voi visualizzate ha tra parentesi riferimento al punto del CUD di interesse perfetto quando ho copiato tutto quello che mi viene richiesto e visionato e tutto quello che ritengo utile posso spostarmi di quadro e se il programma non mi dà segnalazioni gravi cioè rosse vedrò i dati riportati nei vari quadri in questo caso il programma mi sta dando un avvertimento perché inserendo io degli importi casuali e non veri la quadratura del modello CU che il programma fa di massima non collima questo messaggio dovete intenderlo come un messaggio utile a evitare l'inserimento per esempio di uno zero in più di uno zero in meno l'inversione di due cifre e quindi è un controllo di massima sulle certificazioni uniche voi dovete dichiarare quello che vedete nei documenti che visionate se vedete in realtà avendo compilato il quadro CU io mi trovo già i dati riportati per esempio nel quadro C ma anche come vedremo poi più avanti nel quadro E nei righi di competenza quindi il quadro modelli CU è un macro dettaglio che una volta compilato fa partire tutti i vari contenuti nei diversi campi di provenienza scusatemi di pertinenza indicando la provenienza CU quindi il fatto che quel dato non l'ho inserito nel quadro ma l'ho inserito nel quadro modelli CU torno un attimo indietro per quanto riguarda il modelli CU per riprendere il discorso dei giorni perché in caso di più certificazioni uniche il fatto di compilare i giorni quindi le date copiandole delle annotazioni AI ovviamente quando presenti vi è molto utile perché è il programma in questo caso che fa un controllo di convenienza sulle detrazioni da applicarsi non ci sono grossissime novità dal punto di vista normativo per quanto riguarda in realtà il quadro modelli CU ci sono dei casi particolari nuovi che nel nostro caso nella nostra procedura vengono indicati in questo punto con la possibilità poi o la necessità di indicare anche il codice stato estero qualora sia necessario nel quadro modelli CU poi sono state inserite anche le relative annotazioni nella sezione delle annotazioni qui in basso quindi le annotazioni BC, BD a seconda dei codici e una delle novità di quest'anno è la annotazione CV per i docenti e i ricercatori rientrati prima del 2000 e uno dei campi nuovi inseriti in questa schermata è per l'appunto il 475 scusatemi del bonus carburanti che ho compilato precedentemente nel caso siano presenti più quadri modelli CU con il punto 475 compilato è il programma che vi segnala il superamento dell'eventuale massimale così come già faceva negli anni scorsi per il punto 475 e che vi va ad aumentare il reddito indicato nel punto 1 di una delle certificazioni uniche qualora ce ne fosse ce ne fosse necessità ovviamente qualora avessi inserito un quadro modelli CU errato lo posso sempre cancellare e con il pulsante nuovo modello posso andare a indicare effettivamente un nuovo modello il quadro D non mi ci soffermo molto perché in realtà è abbastanza intuitivo ho la possibilità appunto di compilare i vari redditi secondo le tipologie e gli importi facendo doppio clic ho la possibilità di indicare e avere delle funzionalità di calcolo per esempio anche il cambio valuta nel caso dovessi indicare un reddito un reddito estero quello che vi segnalo e che poi vi farò vedere sono eventualmente questi messaggi di compilazione che sono attivabili dalla compilazione del dettaglio del quadro E che fra pochi minuti andremo a vedere qualora avessi la necessità di creare più righi per uno stesso per uno stesso rigo per uno stesso codice scusatemi utilizzo in questo caso il pulsante più per creare un secondo rigo secondo le varie necessità passerei quindi alla sezione degli oneri gli oneri sono come vedete molto dettagliati in più di un senso nel senso che non soltanto i righi come vedete sono molto sono ovviamente presenti in modo singolo e specifico uno per uno ma molte per molte tipologie di righi quasi tutte in realtà sono previsti proprio dei righi di dettaglio come vedete in taluni casi in particolare quando questi righi sono come vedete scritti evidenziati in grigio significa che il vostro amministratore ha reso obbligatoria la compilazione di quel rigo da dettaglio perché potreste avere questa necessità beh per più motivi i dettagli dei diversi righi nel nostro prodotto hanno diverse utilità possono per esempio nel caso del rigo E1 funzionare come delle calcolatrici quindi permettervi di effettuare direttamente già qui il calcolo delle delle varie delle varie spese senza la necessità di effettuare un calcolo complessivo esternamente ma vi permette di inserire qui il dettaglio proprio della documentazione singola una per uno che andate a visionare come vedete appunto qui c'è la funzione di cambio valuta a cui accennavo prima per esempio ma il dettaglio non ha soltanto la funzione di aiutarvi soprattutto per esempio per quanto riguarda le l'inserimento dei farmaci da banco che come vedete anche per i figli potrebbero essere molto lunghe e diciamo non agevoli ecco a volte sono quelle sono le informazioni che richiedono più tempo per l'inserimento anche per una questione quantitativa ma vi permette anche poi di ottenere un 730 barra 2 esplicito che vi tutela ancora di più rispetto alla documentazione che avete visionato all'interno diciamo della per compilare la dichiarazione quindi la compilazione del dettaglio per esempio per quanto riguarda l'E1 ha un duplice vantaggio vi agevola nel calcolo ma anche vi tutela ai fini del visto di conformità che non sono agevolazioni come dire da poco quindi più specificatamente più precisamente compilate il dettaglio che stiamo visionando più siete tutelati e a fini della a scanso di equivoci a scanso di errori diciamo anche in funzione del visto per quanto riguarda l'E1 vi segnalo una novità importante fiscale di quest'anno che è la possibilità di accettare integralmente il valore delle spese mediche presenti nella precompilata ora in questa fase della campagna fiscale non ci sono precompilate quindi non posso farvi vedere questa funzione ma sappiate che qualora fosse presente la precompilata voi visionereste in questo campo l'importo presente nella precompilata con la possibilità di riportarlo in dichiarazione e di comunicare al software che a prescindere da quello che voi avete inserito sopra voi intendete accettare la precompilata il consiglio è sempre di inserire le spese perché soltanto inserendo le spese effettive voi riuscite a capire se per voi c'è convenienza ad accettare la precompilata oppure no quindi è per questo è anche per questo che la funzione di verifica e controllo e confronto con la precompilata all'interno del dettaglio è riportata qui in basso perché si ritiene che sia appunto una verifica da fare a posteriori e una valutazione di convenienza da fare a posteriori qualora poi l'operatore accettasse il valore riportato dalla precompilata l'agenzia delle entrate in sede di verifica documentale non vi chiederà non potrebbe chiedervi i documenti relativi a quel rigo appunto perché voi avete accettato il valore così come è arrivato la precompilata questa è una delle più grosse novità relative a quest'anno e probabilmente verrete diciamo edotti sulle conseguenze di questa novità più avanti nei prossimi giorni di formazione da parte dei colleghi fiscalisti un'altra novità un altro dettaglio molto utile per il riporto dei dati per il calcolo dei dati in questo caso soprattutto per l'abbattimento corretto al massimale sono i dettagli per esempio delle sette ma anche i dettagli di tutti gli oneri che hanno massimale per evento per quanto riguarda le sette vi faccio vedere questo dettaglio è un dettaglio che mi viene riportato dall'anno scorso io non faccio altro che inserire gli interessi di quest'anno ed è il programma che in automatico mi calcola l'abbattimento tenendo conto non soltanto della quota aspettante ma in questo caso anche dell'effettiva percentuale di detraibilità che in realtà deriva da una rinegoziazione che io avevo inserito all'interno di questo dettaglio quindi come vedete il fatto di passare dal dettaglio agevola tantissimo il calcolo perché in questa casistica io avevo per esempio un mutuo originario che era stato rinegoziato variandone la mia percentuale di detraibilità e per di più ho una quota aspettante quindi una percentuale di quota aspettante che non è il 100% se dovessi carta penna tener conto di tutte queste variabili la probabilità la possibilità di commettere anche solo un errore diventa molto alta il software in questo caso vi aiuta per due motivi intanto perché vi aiuta per il calcolo ma in secondo luogo perché questo dettaglio vi viene riportato da un anno all'altro e quindi non è un'attività che perdete ma un'attività che come vedete agevola l'inserimento questi dettagli sono spesso e volentieri quasi sempre copiabili si possono copiare da un'altra pratica presente in archivio ma separata oppure dal mio soggetto coniuge qualora io stessi presentando una dichiarazione congiunta una novità fiscale riguardo il rigo e7 già che mi trovo in questo punto è lo sdoppiamento del rigo e7 rispetto i mutui stipulati entro il 31 12 2021 e i mutui stipulati a partire dal 31 12 scusatemi dall'1 gennaio del 2022 questo funzionalmente al corretto calcolo del trattamento integrativo da riconoscere in sede di dichiarazione qualora il soggetto abbia un reddito superiore ai 15.000 ma sempre all'interno dei miei limiti di reddito massimi per il riconoscimento di tale trattamento come vedete anche in questo caso alcuni righi li posso compilare in modo libero quindi semplicemente posizionandomi sul campo e inserendo la spesa ma potrei avere comunque la convenienza di compilare il dettaglio perché magari ci sono appunto dei massimali come in questo caso per esempio per evento scusatemi quindi potrei per esempio avere delle spese che sono relative non so quelle relative all'istruzione universitaria piuttosto che quelle relative all'istruzione per la scuola secondaria dell'infanzia di secondo grado che hanno dei massimali che in realtà vanno per evento e non tanto per per massimale to cure quindi non c'è un massimale sul rigo in particolare ma c'è un massimale per evento quindi io potrei indicare tutte le spese effettivamente sostenute per questo figlio in questo caso vedete che magari uno è per la mensa l'altro è per i contributi ma in realtà l'abbattimento mi viene fatto correttamente qualora io avessi selezionassi un altro figlio ovviamente il programma invece mi andrebbe a riconoscere un secondo massimale come da normativa se io vado a indicare in questo dettaglio un familiare per il quale non ho diritto a portare in detrazione la spesa perché magari il familiare supera la soglia di età che mi dà diritto a quella detrazione il programma fa scattare una serie di controlli bloccanti in questo caso e quindi una serie di controlli gravi che mi impediscono la compilazione della pratica come vedete alcuni righi hanno appunto gli oneri come provenienti da certificazione unica e quindi sono già precompilati per il semplice fatto che io ero passato dal quadro modelli modelli cu vedete che quando mi sposto il pallino diventa da rosso a verde in qualsiasi momento ho la possibilità di salvare i dati inseriti fino a quel momento il pulsante salva non salva solo il quadro in cui mi trovo salva l'intera pratica quindi posso farlo ogni qual volta io mi trovi nella situazione di aver inserito una molle di dati che non voglio rischiare di perdere inavvertitamente perché non lo so cosa che succede spesso a me cavallando le gambe stacco la corrente del computer e o stacco il cavo di rete purtroppo sono cose che succedono e questo magari potrebbe crearmi delle difficoltà per dire allora in via preventiva posso utilizzare il pulsante salva ogni volta che ho inserito magari una molle di dati che ritengo opportuno memorizzare senza però uscire dalla compilazione ogni volta che ho invece la necessità di uscire dalla compilazione posso utilizzare il pulsante chiudi e salva che salva tutti i dati inseriti in tutti i quadri ma mi porta anche fuori dalla compilazione in questo in questo momento per quanto riguarda la seconda sezione non non ci sono particolari particolari novità come vi dicevo prima il tempo ahimè oggi è tiranno quindi vi rimando al menu di aiuto e alle novità fiscali che sono state che sono presentate all'interno della presentazione che trovate appunto nel menu di aiuto e che vi evidenzia in particolare le novità dei fiscali di quest'anno così come integrate all'interno della procedura io dovendo farvi fare farvi vedere una panoramica della procedura in generale e anche le novità fiscali rischio purtroppo di perdermi magari qualche dettaglio ma mi sembra almeno finora di avervi fatto vedere le cose più 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 importanti per quanto riguarda la seconda sezione anche qui non ci sono grosse novità ovviamente c'è un nuovo residuo all'interno del Rigo 36 ovviamente all'interno delle erogazioni a favore di istituzioni religiose sono state aggiunte appunto quelle per la chiesa d'Inghilterra che è stata aggiunta all'interno del 5 per 1000 avete la possibilità di visualizzare l'elenco delle ONG ammesse ufficialmente ammissibili per la compilazione del Rigo questa è una funzione di utilità che potrebbe essere molto utile così come per le ONLUS e gli ETS che vedete in questa in questa sezione il programma fa un calcolo di convenienza tra la deduzione e la detrazione per le erogazioni liberali alle ONLUS so che potrebbe risultare controintuitivo ma in realtà ci sono dei casi in cui un'erogazione liberale a una ONLUS potrebbe risultare più conveniente esposta come detrazione anziché come deduzione in questo caso il programma rileva la convenienza e al contrario vi suggerisce la deduzione anziché la detrazione sempre che lo possiate fare e il fatto che possiate farlo lo dovete verificare voi documenti alla mano ma vi suggerisce la compilazione che è più conveniente per il contribuente come vedete per ciascuno dei righi anche nel quadro E1 avrete notato che ci sono delle scatoline verdi che sono le icone di storit queste icone di storit che sono sostanzialmente parallele a questa qua in alto sono le icone che permettono di archiviare i documenti specifici per quel particolare rigo la differenza è che mentre diciamo l'icona di storit qua in alto mi permette di fare un'archiviazione generica di un documento allegato del 730 generale l'icona sul rigo specifico invece mi attiva un collegamento vediamo se riesco a farvelo vedere con un riferimento specifico al rigo di competenza da cui ho aperto l'archiviazione questo sempre funzionalmente ha un'archiviazione più efficiente della documentazione perché questo agevola poi il recupero dei documenti in fase di per esempio 36 ter piuttosto che di controllo visto da parte del mio RAF prima dell'invio della pratica all'agenzia delle entrate le icone per l'archiviazione come vi dicevo possono essere generiche possono essere collegate a rigo ma possono essere anche collegate a rigo e pluriennali pluriennali significa che io le archivio quest'anno ma rimangono non collegate specificatamente a 730 2023 ma rimangono collegate a questo soggetto per il rigo in questo caso è 7 di tutti i 730 che farò da qui in poi quindi è appunto pluriennale sarà quindi accessibile e consultabile anche nelle campagne fiscali di competenza tipicamente dal pluriennale vado ad archiviare per esempio l'atto di compravendita la fattura del notaio mentre dall'icona non pluriennale vado ad archiviare la scansione della certificazione degli interessi pagati di quest'anno che come ben sapete ogni anno variano sempre però lasciandoli collegati al rigo specifico nel quale mi trovo questo tipo di archiviazione potrebbe in alcuni casi essere obbligatoria cioè potreste potreste avere degli errori gravi alla chiusura della pratica al salvataggio della pratica o alla conferma della pratica che vi impediscono la conferma del dichiarativo fin tanto che non avete archiviato un documento collegato allo specifico rigo che avete compilato quindi è possibile che abbiate anche un comportamento guidato fortemente guidato non soltanto per quanto riguarda la compilazione del rigo da dettaglio piuttosto che da sintetico ma anche per quanto riguarda l'archiviazione documentale per quanto riguarda la terza sezione come vedete esiste la possibilità appunto di avere un riporto dei dati dagli anni precedenti anche qui funziona esattamente come per gli altri righi che abbiamo visto ho modo di copiare il rigo da un'altra pratica o dal coniuge se congiunta ho la possibilità di archiviare gli oneri pluriennali collegati a questo specifico rigo che sto gestendo ho la possibilità potrei avere la possibilità o l'obbligo di compilare il rigo da dettaglio qualora non vedessi la possibilità di compilare il campo direttamente da qui significa che ho la necessità di compilarlo o l'obbligo di compilarlo specificatamente da dettaglio per quanto riguarda per esempio le gli oneri pluriennali in questo caso delle ristrutturazioni delle spese di intervento per recupero patrimonio edilizio la compilazione di dettaglio mi permette una serie di compilazioni di inserire una serie di informazioni che mi sono molto utili in particolare mi consente una verifica dell'abbattimento al massimale più corretta corretta e rapportata alla mia quota limite che vado a indicare mi permette di indicare se la conosco un'eventuale spesa ceduta tramite super bonus per esempio mi permette se avessi indicato il caso particolare di proseguimento lavori di andare a indicare le spese già detratte in anni precedenti in modo che il programma possa tener conto di queste spese precedenti per fare il corretto abbattimento mi permette di collegare la spesa all'immobile nel quadro B quando necessario questo perché mi permette di posso indicare la data di inizio lavori per esempio la data di bonifico per esempio tutte queste informazioni sono informazioni che mi permettono di avere una dichiarazione come vedete anche dai messaggi che sono comparsi una compilazione dell'autocertificazione e delle e del 730 barra 2 il più corretto possibile il più completo possibile quindi potrebbe essere che nella compilazione di questo dettaglio mi vengano chiesti una serie di campi aggiuntivi come sta succedendo in questo momento tutti questi controlli scusatemi che verifico un attimo il campo no ok sì mi chiede questa sezione tutte queste sezioni sono funzionali a una più corretta verifica della della compilazione del dettaglio sempre ai fini del visto di conformità e in particolare per quanto riguarda la sezione delle spese per gli interventi di recupero e anche la parallela sezione per il risparmio energetico per un eventuale controllo incrociato con le eventuali pratiche super bonus c'è una funzione di confronto con la procedura super bonus la procedura super bonus non è oggetto del corso di oggi ma ve lo accenno se voi utilizzerete la nostra procedura super bonus tramite questa funzione che vedete in alto il programma attiva dei controlli incrociati per evitarvi il rischio di portare sia in detrazione che comunicare tramite super bonus una medesima spesa e poi c'è la possibilità tramite questo link di visualizzare le tabelle di raccordo perché ahimè come sapete i codici previsti per delle particolari spese all'interno del 730 non sono gli stessi della procedura super bonus e quindi questa tabella di raccordo vi permette di fare un po' di chiarezza su quale codice corrisponde a cosa nelle due diverse nelle due diverse procedure ok ci sono appunto anche qui dei dati che mi vengono obbligatoriamente da dettaglio io posso azzerare in questo caso per una più veloce compilazione della pratica all'interno di questo dettaglio mi viene richiesto come vi dicevo il collegamento al quadro dell'immobile nel quadro B in questo caso è obbligatorio potrei avere una situazione di usufrutto o di immobile non presente nel quadro B nel dettaglio è possibile indicarlo questo serve perché qualora andassi negli anni successivi a cancellare l'immobile nel quadro B il programma mi segnalerebbe la presenza di una spesa nel quadro E perché le due cose di solito vanno insieme se cedo l'immobile cedo anche la detrazione ma non è detto e quindi questo doppio controllo è molto utile non ci sono grosse novità per quanto riguarda questo quadro come vedete come potete intuire dalla visualizzazione il sistema è analogo a quello che abbiamo già visto in altri punti quindi la possibilità o l'obbligo di compilare il rigo da dettaglio la possibilità di archiviare i documenti pluriennali oppure no collegati al rigo specifico il confronto con super bonus la possibilità di copiare i righi da un'altra pratica la tabella di raccordo per i codici del prodotto una delle novità è una variazione per quanto riguarda il codice 71 tipologia 4 ma è una novità fiscale molto molto semplice in realtà nel senso che viene semplicemente richiesto vengono richiesti i dati in più e l'abbattimento è diverso ai fini della liquidazione andiamo velocemente al quadro F nel quadro F vedreste tutte le eventuali ritenute già inserite nel quadro C in questo momento io non le ho inserite quello che vi faccio notare è che il programma vi riporta in grigio qua sotto l'eventuale risultato contabile del dichiarativo 730 da cui si sono riportati i dati nell'anno precedente in questo caso l'operatore è obbligato o a compilarli con quello che era se era uguale ovviamente li deve confermare non si tratta di copiarli si tratta di verificare le trattenute subite dal contribuente o gli F24 versati dal soggetto ed eventualmente di confermare l'inserimento di un dato diverso esplicitamente queste sono verifiche che ci sono state richieste negli anni dai nostri clienti perché sono i punti su cui c'erano più troppo più errori sempre nel quadro F c'è la possibilità di andare a indicare una rateizzazione diversa lo vedremo anche dopo di indicare eventuali azzeramenti degli acconti o versamenti in misura inferiore eventualmente con l'obbligo di indicare la motivazione per cui l'operatore richiede di di andare a versare gli acconti vediamo un po' qui mi chiede una conferma sulla certificazione unica per quanto riguarda l'ulteriore detrazione per l'appunto perché ho indicato un'ulteriore detrazione devo confermare che il punto 364 del CUD non era già presente altrimenti rischio di riconoscere una detrazione doppia al contribuente quindi di portare poi una sanzione per quanto riguarda il quadro G ci sono delle novità fiscali e qui acceno velocemente che impattano prevalentemente sul rigo G15 e quindi c'è stata diciamo una ristrutturazione anche grafica diciamo se vogliamo per quanto riguarda almeno all'interno della procedura web si intende per quanto riguarda tutti i righi G15 e tutti gli eventuali codici che hanno che è parallela a una diversa esposizione di questi codici anche poi nel prospetto di liquidazione dei quadri successivi dal quadro I posso indicare eventualmente un importo da voler portare in compensazione qualora avessi la pratica IMU il programma in questa sezione qui mi riporterebbe il calcolo dell'IMU fatto dall'altra procedura il quadro modello 730 barra 2 e il quadro autocertificazioni mi si compilano in automatico proponendomi una serie di codici che dipendono dai vari righi e dettagli che ho compilato è per questo che vi dicevo attenzione perché più sono precisa nella compilazione dei dettagli più è preciso sia il 730 barra 2 che il quadro autocertificazione e poi infine il modello 730 barra 3 che come vedete mi riporta il mio prospetto di liquidazione che si aggiorna in tempo reale ad ogni variazione che io inserisco nella procedura ho la possibilità di inserire i diversi di visualizzare i dettagli quindi di andare a vedere i diversi righi ministeriali da quali compilazioni mie compilazioni arrivano in modo da andare a individuare in modo più celere eventuali errori qualora ci fosse un importo che non che non mi aspetto che non mi torna posso andare a visualizzare qual è l'eventuale indicazione di aliquota applicata del per il soggetto in questa particolare dichiarazione informazione molto utile in caso soprattutto di come in questo caso esenzioni o esoneri oppure in caso di aliquote a scaglioni ho la possibilità di vedere non soltanto il risultato contabile generale qui in alto nello specchietto qui in alto ma anche di andarlo a vedere ovviamente nella parte qui in basso e posso andare anche a vedere ad attivare delle utility dei dettagli per esempio c'è il calcolo rate che mi permette di simulare una rateizzazione in questo caso io sono a rimborso e quindi ovviamente il programma non mi fa vedere una variazione ma potrei vedere la variazione e già da qui potrei andare nel rigo F6 per andare a proporre la rateizzazione sempre nel dettaglio nel scusatemi nel prospetto di liquidazione posso aprire certi dettagli per esempio il dettaglio di calcolo dei familiari a carico molto utile quest'anno considerata la variazione normativa il calcolo di dettaglio delle detrazioni che il programma da lavoro dipendente o da pensione che il programma sta applicando in questo momento così come un dettaglio per quanto riguarda il trattamento integrativo spettante il programma in questo caso comunica che non c'è appunto una non c'è diritto a un trattamento perché non c'è capienza ma nel qualora ci fosse si sarebbe la possibilità di andare a visualizzare gli importi e di visualizzare il nuovo calcolo soprattutto per quei redditi tra i 15.000 e i 28.000 che hanno un calcolo quest'anno molto particolare e che vi segnalo vi verrà sicuramente accennato dai fiscalisti nei prossimi incontri ma vi segnalo che all'interno della procedura qui avete il dettaglio del calcolo che il programma sta facendo pratica per pratica nel momento in cui ho completato la mia compilazione chiudo il mio dichiarativo riguardo le segnalazioni dell'intera pratica posso rientrare variare ignorare a seconda delle mie necessità nel momento in cui non ho più né errore gravi né annotazioni o quantomeno ho annotazioni ma non bloccanti vedete che in caso di pratica corretta corretta con note mi si attivano i pulsanti per la conferma prima e per la stampa dopo per quanto riguarda la stampa avrete dei modelli proposti dal CAF avrete la possibilità di inserire l'eventuale IBAN del soggetto nel caso si tratti di una pratica senza sostituto di imposta avrete la possibilità di attivare la stampa in coda della delega alla precompilata per l'anno prossimo e della delega la CU 2024 sempre funzionale alla campagna fiscale 730 2024 sempre in questa sezione avrete la possibilità di andare a stampare un'eventuale lettera di fondi non dedotti o un'eventuale lettera di minore conto impostando il flag opportuno se ne avete necessità cliccando su stampa il programma genera effettivamente il mio il mio modello 730 completo di tutti i modelli aggiuntivi che io ho eventualmente aggiunto e questo è il pdf che vedrete in automatico si archivia anche all'interno del mio 730 dei miei documenti archiviati è sempre consultabile qualora avessi sbagliato con lo sblocca posso riportare la pratica in modifica e da qui continuo come vi dicevo velocemente non posso farvi vedere la gestione della precompilata nel 2023 perché non è ancora stata rilasciata ma vi faccio vedere come funzionava e come funzionerà quindi la gestione dei dati della precompilata nel 2022 una pratica con la precompilata precaricata si vede intanto perché viene memorizzato la data di confronto con la precompilata si attivano i pulsanti per la stampa della precompilata o la stampa delle fonti e nel momento in cui io entro sia in visualizzazione che in compila nei quadri opportuni cioè nei quadri evidenziati con questo color un po' amaranto vuol dire che sono presenti dei dati dalla precompilata che posso visualizzare attivando proprio l'icona dell'agenzia delle entrate con anche le fonti utilizzate o non utilizzate qui in fondo ogni volta che c'è una precompilata caricata sia all'uscita di ogni quadro che all'uscita della pratica il programma mi evidenzi sempre in questo colore leggermente diverso tutte le differenze con la precompilata segnalandomi che cosa sto dichiarando in Qweb e che cosa era presente nella precompilata insegnandomi gli inserimenti le modifiche le differenze tutte queste informazioni io le posso recuperare poi anche con un report nel caso del il recupero dei dati dalla precompilata si può accadere in creazione qualora la precompilata sia l'unico dato che ho per questo contribuente oppure con dei pulsanti appositi di copia dal quadro C per esempio vedete questi pulsanti di copia in alto mi permettono di riportare il dato dalla precompilata verso il dichiarativo limitatamente al quadro C e al quadro F quindi per i redditi e per le ritenute dal menu servizio report ci sono dei report specifici anche relativi al confronto della precompilata ve li faccio vedere sempre nel 2022 ma tenete presente che vengono rilasciati poi ogni anno quindi saranno oggetto di ulteriori aggiornamenti nella funzione di reportistica io posso impostare dei report in formato pdf o dei report in formato csv cioè report che poi voglio gestire con excel per esempio magari perché ho la necessità di fare una stampa una stampa unione per quanto riguarda non lo so una campagna di marketing postale cose di questo genere per quanto riguarda invece quello che dicevamo la precompilata ci sono dei report specifici di confronto con la precompilata che verranno attivati nel momento in cui rilasceremo l'importazione delle precompilate all'interno della procedura e che vanno a evidenziare delle differenze specifiche per esempio quelle sul quadro c o sul quadro d oppure per ognuno di questi di questi quadri quindi ci sono dei report specifici per il confronto con la precompilata oltre a questi ci sono dei report normali diciamo di uso quotidiano o quasi indipendentemente dalla presenza o meno della precompilata che mi permettono eventualmente stampando anche dei dati aggiuntivi o variando come in questo caso le colonne dei CSV e andando a inserire dei dati o dei filtri specifici in modo da andare non lo so per esempio a rilevare soltanto le pratiche ordinarie congiunte tutt'ora in modifica oppure non mi interessano quelle in modifica ma mi interessano quelle confermate perché ho il dubbio di aver fatto magari un errore fino al 25 marzo del 2023 perché non avevo ancora frequentato questo corso e quindi magari o magari non avevo ancora frequentato il corso dei fiscalisti e quindi potrei avere il dubbio di aver inserito un valore in un determinato modo errato oppure potrei andare a voler verificare le pratiche che sono in modifica congiunte e che magari hanno fanno parte di una particolare regione per esempio il Molise ha subito un'errata corrige per cui c'è una variazione di calcolo dell'addizionale regionale allo stesso modo se uscisse un'errata corrige o una variazione di calcolo per un addizionale comunale potrei andare a cercare le pratiche confermate quindi chiuse che magari fanno riferimento a una particolare addizionale comunale dovuta per l'acconto o per il saldo specificatamente posso andare a fare dei report specifici relativi alla precompilata e allo stato delle deleghe o allo stato della precompilata posso andare a cercare soggetti che hanno una particolare un particolare utilizzo nel quadro B un caso particolare dell'Imu un particolare rigo del quadro E le spese 110% e così via queste sono le funzioni di reportistica che che io diciamo posso posso ottenere all'interno del del mio sistema posso come vi dicevo generare un csv oppure posso generare semplicemente un pdf il programma mi genera sempre uno zip dentro il quale è contenuto il mio report così come l'ho richiesto mi sembra di essere riuscita a farvi vedere bene o male tutte le funzionalità che mi erano state richieste per questo corso mi spiace non avere tantissimo spazio per le domande ma ho visto che non ci sono state molte domande in linea per cui diciamo che mi sono presa un po' più di tempo per le spiegazioni visto che non emergevano durante la presentazione ho dato per scontato che non ci fossero grossi dubbi quantomeno riguardo la procedura finora e basta vi saluterei vi augurerei una buona campagna fiscale se si mette un attimo in chiaro ha ragione ho tolto la condivisione ma ho dimenticato di riattivare grazie del promemoria dicevo mi sono presa il tempo che avevo perché non vedevo grosse domande in linea vi auguro una buona campagna fiscale un buon corso per i prossimi giorni e basta vi saluto vi ringrazio di questa opportunità di presentazione c'è anche il dottor Altamura quindi penso dire a lui delle cose per quello che vale io la ringrazio faccio i complimenti per la chiarezza e per anche la comunicazione molto lineare che è riuscita a mettere in campo per presentare una densità di informazioni notevole quindi complimenti davvero grazie Franco visto che ci sei forse vuoi dire tu qualcosa se no congediamo la nostra dottoressa Pellegrini è muto aspetta ti riattivo vuoi l'audio vediamo se riesco a darti l'audio sì ok mi sentite ora grazie grazie Peppe sì volevo volevo fare i ringraziamenti alla dottoressa Pellegrini per la chiarezza spero oggi è stata la prima giornata quindi un pochettino di qualche piccolo inconveniente l'abbiamo avuto ma credo che sia stato superato brillantemente speriamo che insomma correggeremo qualche piccolo errore che abbiamo fatto anche di comunicazione con alcuni centri infatti alcuni centri si sono collegati con un leggero ritardo però sono cose fisiologiche che sicuramente affineremo vi voglio ringraziare grazie a tutti per la partecipazione e rinnovo l'appuntamento a giovedì prossimo sempre alle ore dieci grazie a tutti e buon inizio settimana arrivederci arrivederci grazie a tutti arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti